Avverto che l'audizione odierna, ove non vi siano obiezioni, verrà trasmessa indifferita sulla web tv della Camera dei Deputati. La Commissione oggi convocata per avviare il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame di disegno di legge 2220 di conversione del decreto legge 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Saluto quindi la rappresentante dell'Associazione Italiana Fintech, Marta Ghiglioni, alla quale do il benvenuto e ringrazio per la presenza. Recedo subito la parola, chiedendole la cortesia di contenere la relazione in una decina di minuti per dare spazio anche al dibattito e poi ai soggetti da udire successivamente. Prego. Grazie a tutti, illustrissimi onorevoli e membri della Commissione Finanze, come portavoce di Italia Fintech sono oggi a rappresentarvi i principali punti di impatto della normativa in oggetto relativamente al settore della finanza innovativa. Il settore in Italia sta crescendo e suscitando l'interesse di imprese, sia piccole, medie che grandi, oltre a costituire per molti cittadini un punto di riferimento nella gestione dei pagamenti, degli investimenti, dei finanziamenti, sia in equity che in lending. Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2018 sono stati raccorti dalle Fintech italiane complessivamente circa 198,65 milioni di euro, un importo di quattro volte superiore al 2017. Anche i volumi della cosiddetta finanza alternativa aumentano. La penetrazione dei servizi Fintech sul mercato sta crescendo a passo sostenuto e, secondo i dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, almeno un utente, un cittadino, un italiano su quattro, ha utilizzato nel corso del 2018 servizi Fintech. Ebbene, si pensi che su circa 1,7 miliardi di euro erogati alle imprese da lender digitali in Europa, escludendo il Regno Unito, un miliardo è stato erogato in Italia. Che l'equity crowdfunding ha visto una crescita nel 2019 di 131%. Ebbene, il Fintech nasce per risolvere i problemi concreti dei cittadini e delle imprese nella relazione con le proprie finanze. Applicando la tecnologia, questi operatori in tutto il mondo operano per migliorare l'esperienza dei propri utenti e offrire servizi innovativi disegnati per le diverse eterogene necessità del mercato. Non solo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescente contaminazione tra finanza tradizionale e innovativa, tant'è che molte banche hanno investito direttamente nel capitale di Fintech e o ne offrono servizi con diverse modalità di partnership. Complessivamente il Fintech ha avuto un effetto propulsore della qualità dei servizi finanziari to poor, spingendo anche operatori tradizionali verso soluzioni via via più innovative. L'importanza dell'innovazione, tra gli altri, anche nel settore finanziario, è evidente sia al legislatore sia al governo, che più volte si sono espressi in favore di un mercato dell'innovazione più competitivo per il nostro Paese. Per questo riteniamo che l'odevole intento di incentivare l'adozione dei pagamenti elettronici non debba però sconfinare in un'alterazione del mercato dei servizi finanziari e della competitività dello stesso. Riassumendo e integrando, vorrei darvi tre principali messaggi di carattere generale. Per primo, il pensare e scrivere le norme avendo in mente carte, siano esse un sistema più tradizionale che ritroviamo anche nella norma in oggetto, rischia di far dimenticare e di conseguenza non valorizzare quell'offerta innovativa nata proprio a colmare le inefficienze del sistema tradizionale. Si pensi infatti che all'interno della definizione di carta prepagata ricomprendiamo un po' tutti quegli strumenti di pagamenti elettronici. Inoltre, secondo punto, la narrativa intorno ai pagamenti elettronici che si sta sviluppando nell'opinione pubblica, legata ad obblighi e doveri, non favorisce l'adozione dei sistemi, anzi, contribuisce alla polarizzazione del pensiero e dell'opinione pubblica intorno all'opportunità di utilizzare servizi di pagamento digitale. Il sistema di sanzioni, così come proposto, sarebbe da scoraggiare, anche in quanto, per come disegnato, rischia di alterare la concorrenza nel mercato dei sistemi di pagamento. Su quest'ultimo punto in particolare, l'articolo 23 prevede sanzioni agli esercenti che non accettino almeno una tipologia di carta di credito di debito, dimenticandosi delle prepagate che ricomprendono, come dicevo, tutti i sistemi di pagamento digitali innovativi. Inoltre, il combinato disposto delle detrazioni per i pagamenti con carta di credito e debito e delle sanzioni per la mancata adozione di un metodo di acquiring specifico, ossia il POS, rischiano di avere un effetto distorsivo del mercato, a discapito degli operatori innovativi. Tra l'altro, tra le previsioni, pare in principio contraria alla direttiva sui sistemi di pagamento, che prevede per lo Stato un divieto di favorire l'adozione di un sistema elettronico piuttosto che un altro. In conclusione, sono altri due i temi sui quali vorremmo richiamare la vostra attenzione. Per primo, l'obbligo di registrare all'opera dell'esercente il codice fiscale dell'acquirente per ogni pagamento elettronico. Secondo quanto previsto dall'articolo 19 sulla lotteria, infatti, emergono a nostro avviso due principali problemi operativi. In primo luogo, un rallentamento della procedura di pagamento e un conseguente paradossale disincentivo nell'utilizzo dei sistemi elettronici. In secondo luogo, le difficoltà pratiche di comunicazione dei dati, in primo luogo tra il pagatore e l'esercente, e poi anche nella fase successiva, potrebbero causare ulteriori distorsioni, con potenziali errori nella raccolta dei dati, che renderebbe le banche dati così realizzate incoerenti e per questo anche in un certo senso inutilizzabili. Da ultimo, ma non per importanza, dal punto di vista della tutela privacy dei cittadini, il codice fiscale risulterebbe inutilmente registrato su terminali dei registratori di cassa, che ad oggi non gestiscono dati personali e sensibili degli acquirenti. La soluzione più semplice e praticabile sarebbe abilitata proprio dalla tracciabilità degli strumenti di pagamento elettronici. Questi, nel momento in cui vengono assegnati, prevedono la raccolta dei dati personali per le normative KYC e AML, ad opera dell'issueware. Auspicchiamo quindi che i dati dei pagatori vengono comunicati dall'issueware in modo automatizzato. Inoltre, su una nota più generale, rappresentiamo la necessità che il legislatore concentri le sue attenzioni verso i risultati, astenendosi dall'individuare in maniera prescrittiva gli strumenti attraverso i quali l'innovazione debba essere eseguita. Su questo, in particolare, l'articolo 41,2, dove si prevedono garanzie ISMEA alle imprese agricole per lo sviluppo di tecnologie innovative, seppure condividiamo di questa norma l'intento ad incentivare lo sviluppo delle soluzioni innovative per l'agricoltura di precisione nel tracciamento della filiera di prodotto, non possiamo astenerci dal rilevare come la prescrizione dell'utilizzo della tecnologia blockchain per il trattamento della filiera, ci sembra inutilmente esplicita e puntuale, fintanto da risultare limitante. Infatti, per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, non si è prescritta la tecnologia ad applicarsi, sia essa di sensori IoT, rilevazioni satellitari o altre applicabili. Con questo non si vuole scoraggiare il legislatore o l'esecutivo dal sostenere lo sviluppo delle nuove tecnologie nel nostro Paese, intento lodevole e che condividiamo a pieno. Sottolineiamo solamente come il presupposto migliore per favorire la nascita di soluzioni innovative sia sostenere un'ampia competitività del mercato e lasciare a questo di stabilire le proprie dinamiche. In particolare, tornando al tema dei sistemi di pagamento che è quello che c'era più caro, come associazione Italia Fintech accogliamo positivamente la volontà di incentivare i cittadini all'utilizzo di pagamenti elettronici, capaci di restituire trasparenza e tracciabilità ai pagamenti. L'Italia ha un'adozione peculiare dei pagamenti digitali, che lato cliente sono preferiti dal 45% dei cittadini, contro un 39% che preferisce l'utilizzo del contante, secondo lo stesso studio recente di Banca d'Italia. Infatti questa polarizzazione di cui vi parlavo anche in precedenza è appunto quanto pensiamo debba essere gestito in modo meno prescrittivo e con meno presenza di obblighi e più presenza di incentivi. Dal punto di vista degli esercenti, invece, l'elevata frammentazione del tessuto produttivo, che vede la presenza di moltissime imprese piccole e medie di professionisti, fa sì che il favore dell'adozione dei pagamenti elettronici con gli annessi costi di commissione e gestione non siano ritenuti convenienti. Tuttavia l'Italia è tra i paesi in Europa con le commissioni più basse sui pagamenti sulle carte. Ha testimonianza che l'adozione non è solo un tema di costi, ma è un tema prima di tutto culturale. In questo senso, infatti, sono nate e cresciute in Italia soluzioni disegnate per risolvere i problemi e le dinamiche specifiche del mercato e dei cittadini. E vorrei farvi due esempi molto rapidi. Operatori come Satispay, nati proprio per supportare l'adozione dei micropagamenti, hanno basato la loro attività sull'offerta di sistemi di pagamento digitali con costi ridotti per gli esercenti. E nell'essere esclusi dal sistema di incentivi, come dicevo poc'anzi, verrebbero appunto danneggiati, ancorché sono loro che hanno un po' aperto questa opportunità al mercato per primi. Non solo altri operatori fintech cooperando con banche tradizionali costruiscono infrastrutture che favoriscono l'adozione di pagamenti digitali risolvendo concretamente problemi dei propri clienti. E nel concreto, soluzioni come ad esempio Plik permettono di gestire pagamenti anche di importi elevati con la stessa semplicità, efficienza e immediatezza del contante, rispondendo al bisogno di nuovi modi agili per effettuare i pagamenti di importi elevati al di fuori del sistema delle carte, che andrebbe quindi a risolvere le criticità che si dicono relativamente all'abbattimento della soglia delle transazioni in contanti. Ecco, detto questo, io rimango a vostra completa disposizione per dubbi e perplessità e spero di potervi rispondere su questo. Grazie. Qualcuno ha... Dove ne prego, collega Fragometto. Sì, giustamente sollevate la questione sulle sanzioni e il fatto di esserci un po' dimenticati delle prepagate, è un tema che valuteremo rispetto alle carte di debito e alle carte di credito. Però è anche il tema dei post rispetto ad altri sistemi, è un tema da affrontare, giusto per la concorrenza. Però sulla questione degli scontrini, l'agenzia è entrata un po' discutendone anche con varie interrogazioni, vi dicendo, ci ha un po' fatto capire che il tema non sarà effettivamente una pubblicizzazione a diffusione dei codici fiscali, perché ci sarà una modalità che verranno gerate dei code, che faranno riferimento a quel codice fiscale, quindi ci sarà un tema anche ancora da affinare di pre-registrazione per evitare che appunto non ci sia la possibilità di gestire un dato che appunto contrasta sulla privacy e rallenterebbe anche giustamente la digitalizzazione ogni volta del codice fiscale, sia con strumenti più innovativi, che possa essere un registratore di cassa con un lettore idoneo, sia con altri strumenti legati che abbiamo visto anche in un ultimo question time, la possibilità delle app attraverso smartphone. Quindi mi sembra che questo tema sia un po' in fase di studio, chiaramente il problema c'è, lo sapevamo. Le altre due questioni che sollevate sono vere, invece sono da valutare perché effettivamente creano una possibile disparità e valuteremo come intervenire. Grazie. Prego. Sì, sul tema del codice fiscale che mi sembra l'unico rimasto aperto, la questione non è tanto soltanto il metodo con cui questo token verrà creato nella trasmissione poi successiva dal registratore di cassa in poi, ma anche il fatto che questo codice fiscale, questo dato, è già disponibile a chi ha assegnato la carta al cliente finale. Quindi è un'informazione che è già nella disponibilità e potrebbe essere semplicemente acquisita attraverso un diverso sistema. Quindi facendo riferimento al sistema di pagamento principale, all'issuer della carta, piuttosto che dell'applicazione per smartphone, piuttosto che richiedere all'utente un ulteriore adempimento e all'esercente che già si trova a doversi interfacciare con la novità, un ulteriore adempimento nel percorso. Prego, collega Miri. Grazie, Presidente. Quindi lei innanzitutto ci consiglia, relativamente all'articolo 23, quindi di non avere soltanto l'obbligo per almeno una carta di credito o di debito, ma anche nuove forme di pagamento, quindi tipo, come diceva lei, Satispe, piuttosto che Amazon, piuttosto che Paypal, eccetera. In verità, credo che i nuovi posti, i nuovi sistemi, i nuovi registratori di cassa che stanno per essere forniti e per quale hanno chiesto, comunque ci saranno delle agevolazioni per chi li compra, in visione del 50% di massimo 500 euro per i nuovi registratori di cassa, questo dovrebbero un po' già prevederlo, come dovrebbero prevedere già i nuovi software che riconoscono il codice fiscale, soltanto con un avvicinamento del codice fiscale. Quindi questo è stato un po' infrontato in qualche tavolo di lavoro che abbiamo fatto col governo. Effettivamente l'articolo 23, da quello che ricordo, indicava almeno uno di questi tipi di pagamento, quindi voi consigliate di suggerire almeno altri tipi di pagamento che possono essere questi, diciamo, di nuova generazione? Sì, su questo ci sono due tematiche differenti. Da una parte, diciamo che minacciare l'introduzione di sanzioni e rimandarle ha un effetto negativo sull'opinione degli esercenti che poi si devono trovare a mettere in pratica il sistema. Quindi a livello generale non posso dire che siamo favorevoli all'introduzione di sanzioni o meglio che l'incentivo ad introdurre questo sistema di acquiring sia la sanzione. Questo è in linea generale. Sul caso particolare, il fatto che si menzioni esplicitamente il POS come metodo di acquiring all'interno della normativa, io mi sono rifatta in questo commento esclusivamente a quanto pubblicato già in testo ufficiale, è distorsivo del mercato proprio per tutti quegli altri tipi di pagamento di cui menzionavo prima. Quindi il fatto che ci sia una menzione specifica, un sistema che poi possa essere ovviamente evoluto, ma pensiamo ai professionisti che in questo momento non necessariamente adoperano un registratore di cassa, ma hanno magari altri tipologi di strumenti, potrebbero attraverso un sistema innovativo, attraverso uno smartphone, avere la stessa operatività che garantiscono invece attraverso un POS, quindi che non si sia troppo puntuali nell'indicazione, ma più nella finalità. Prego, collega Giulio Tali. Intanto, grazie Presidente, grazie per la relazione. Ho trovato molti spunti, in parte anche già discussi. Volevo capire sostanzialmente, voi non vedete di buon occhio il fatto di introdurre un obbligo, però dall'altro lato mi sembra che c'è scetticismo anche per quanto riguarda questo cosiddetto cashback sui pagamenti elettronici. Quindi secondo voi neanche l'incentivo del cashback potrebbe essere utile per lo sviluppo dei pagamenti elettronici? Per quanto riguarda il cashback, anzi, soluzioni finte che hanno adottato il cashback come strumento per incentivare l'adozione, quindi non ci sentiamo di scoraggiarlo, non è un tema dell'essere contrari all'obbligo di per sé, solo che in una situazione attuale come quella italiana, molto polarizzata sul tema del pagamento digitale, nel quale viene visto come una conostilità da parte degli esercenti, quindi il nostro intento è quello di portargli una nuova tipologia di servizio, un incentivo positivo all'utilizzo piuttosto che un incentivo sanzionatorio che poi è difficilmente enforceable. Un'altra cosa? Grazie Presidente. Tenga presente che il POS o altri tipi di pagamento, uno sono un vantaggio per il cliente ma anche per un vantaggio degli esercenti stessi. Basti pensare magari in città forse un pochettino più turistiche dove le persone come si sa un po' al destino sono un po' più abituate a pagare con carte di credito o debito invece che con i contanti. Quindi già questo potrebbe essere un vantaggio per entrambi. Inoltre siete sicuri che in verità l'idea politica che stiamo prendendo non ha vantaggi magari anche il vostro lavoro stesso. Tenga presente che in Italia il pagamento contante è circa l'80% e quello per le carte di credito il 19-20%. In Svezia magari stiamo invece con criteri nettamente opposti. E io so che comunque le vostre società lavorano proprio con con lo scambio di pagamenti online. Detto questo noi vogliamo effettivamente che si utilizzino altri tipi di pagamento che non si è contante ma quando? Quando le transazioni non sono elevate. Voi siete sicuri invece che le transazioni che possono avvenire magari mediante Satispay piuttosto che Paypal eccetera siano così basse? Paypal mi risulta sia di circa il 3,4% come commissione su un pagamento. Posso parlare ovviamente per le società che rappresento e non rappresentando Paypal non posso parlare a nome loro. Per quanto riguarda Satispay proprio sui micropagamenti è dove le commissioni sono azzerate se non bassissime sono azzerate. Quindi è proprio sul micropagamento che Satispay si è aperta la strada verso l'incentivazione. Fino a quanti euro? Fino a 5 euro se non erro però potrei potrei verificare meglio. 10 comunque fino a cifre molto basse. Per quanto riguarda il fatto che ci incentivi e ci aiuti senz'altro sì. Non ho non è mia intenzione dire in questa sede che il fatto di mettere un obbligo sull'utilizzo dei post o dei sistemi di valuta di acquisizione di pagamenti elettronici sia negativo per la nostra industria anzi è negativo nel momento in cui vincola all'avere un POS che quindi non ricomprende la maggior parte dell'innovazione che sta avvenendo e dall'altra parte non lo è se nell'essere diciamo rimandato costantemente genera una frustrazione nel mercato. Quindi assolutamente a favore di tutto quello che sia un incentivo una proposizione positiva verso l'acquisizione di pagamenti elettronici che riteniamo essere tracciabili più sicuri e migliori in generale anche per l'utenza e io personalmente non utilizzo contante se posso non utilizzarlo quindi penso la maggior parte delle persone siano d'accordo alla nostra industria con quanto detto da voi. Era più una considerazione in carattere generale sul fatto che si può fare molto di più a nostro avviso con l'incentivo e soprattutto con l'incentivo a tutto il settore senza escludere questi operatori innovativi che crescono a cifre veramente importanti e sarebbe un peccato escluderli dagli incentivi. Bene ringraziamo la rappresentante di Vakintec e ci aggiorniamo presto. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Avverto che l'audizione odierna ove non vi siano obiezioni sarà trasmessa sulla web tv della Camera dei Deputati. La Commissione oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito del disegno di legge 2220 di conversione in legge del decreto legge 124 del 2019 recanti e disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze inufferibili. Saluto i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Commercialisti e dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il dottor Marco Cuckel che è il presidente dell'ANC la dottoressa Maria Pia Nucera consigliere nazionale ADC e il dottor Giuseppe Oliveri consigliere nazionale ADC. Benvenuto a nome di tutta la Commissione. Do subito la parola cedo subito la parola invitando a contenere sul provvedimento una relazione di una decina di minuti in modo da dare spazio poi successivamente al dibattito. Grazie prego. Grazie alla Presidente e alla Commissione di averci audito oggi. Il documento che abbiamo già inviato alla Segreteria e anche in copia cartacea è naturalmente condiviso tra le due associazioni. vengo subito al punto cercando di essere molto breve e anche chiara. Le due associazioni hanno esaminato l'articolato di legge e ritengono che pur se è condivisibile l'obiettivo di questa Commissione di comunque combattere l'evasione essa non sia l'obiettivo non è raggiunto almeno in particolare per alcuni articoli che il decreto fiscale contiene. Vado subito al punto. Partiamo dall'articolo 1 con l'accollo. L'accollo tributario è un istituto giuridico previsto dallo statuto del contribuente. L'articolato di legge riprende in sintesi in tutto e per tutto la risoluzione 140E dell'Agenzia delle Entrate. Di fatto signori miei possiamo dire che con questo nuovo strumento di legge l'accollo è definitivamente morto. Non c'è più convenienza a proporre un accollo. È logico che se vietiamo la compensazione tra i due soggetti che fanno l'istituto giuridico non vi è più alcuna convenienza nell'effettuare questo strumento giuridico. Avremmo fatto meglio ad abolirlo del tutto. Passo all'articolo 2 la cessazione delle partite IVA e la inibizione della compensazione a nostro avviso oggi con gli strumenti tecnologici di cui si dispone con l'Agenzia delle Entrate è immediatamente fruibile e accertabile se esiste o meno un credito compensabile. Per tale ragione non c'è motivo di vietare una compensazione ancorché il soggetto ha una partita IVA chiusa. Qui la previsione normativa è di una partita IVA chiusa di imperio quindi capisco che è un soggetto già attenzionato però non se ne comprende le ragioni logistiche. Vado all'articolo 3 perché l'articolo 3 è quello che ci interessa di più perché non solo colpisce indiscriminatamente tutti i contribuenti ma colpisce in particolare i professionisti. L'articolo 3 è l'articolo che vuole contrastare le indebite compensazioni. Dalla relazione tecnica si vede che le indebite compensazioni tra l'altro non hanno un volume elevato per cui non se ne comprende la ragione relativamente a questa fattispecie. In relazione ai professionisti si viene a creare una discrasia perché il professionista ha una ritenuta d'acconto sul volume d'affari e gli si inibisce la possibilità di compensare un credito certo perché è certo dalla ritenuta d'acconto per 10 o 12 mesi signori miei facendo di ricorrere per pagare gli eventuali altri debiti tra cui l'IVA ha un finanziamento bancario quindi gravandolo di interessi che nella maggior parte dei casi non potrà neanche deturre. Anche qui il nostro giudizio non può che essere assolutamente di piena bocciatura di questo articolo. Se capisco la necessità di perseguire altre tipologie di contribuenti sul professionista che come ripeto riceve una trattenuta fiscale per ogni fattura che emana non lo capisco cioè non c'è una relazione tra questo vincolo così stretto. Andiamo all'articolo 4 che merita forse un po' più di attenzione e anche un po' più di tempo. L'articolo 4 è veramente un ginebraio. Gli articolati all'interno di questo articolo i commi all'interno di questo articolo sono moltissimi e descrivono una faraginosità che è stata che sarà impraticabile assolutamente impraticabile nella realtà. Chi lo ha scritto non ha idea di cosa voglia dire fare impresa e amministrare un'impresa. Le risorse finanziarie devono essere messe a disposizione della ditta committente cinque giorni prima. Per far ciò il bonifico dovrà essere effettuato otto giorni prima. Per far ciò le buste paga e l'estrema faraginosità che prevede l'articolato deve essere messo a disposizione almeno altri due giorni prima. Vuol dire che ci siamo giocati dieci giorni di risorse finanziarie. Stiamo creando un meccanismo che penalizza tutta la crescita dell'impresa e bloccherà interi settori. Inoltre la generalità con cui l'articolo si riferisce tra appalti perché appalto ricordiamo ce lo vuol dire tutto ogni tipo di servizio che prevede un corrispettivo non parliamo più di costruzioni o di servizi. Stiamo generalizzando alla gran parte degli appalti quindi delle prestazioni di servizi un meccanismo che è studiato per frenare probabilmente solo un settore e invece è generalizzato. Ciò significa che l'estrema fariginosità inoltre si innesca con un eventuale contrasto che potrebbe nascere tra le due imprese cioè quella committente e quella appaltatrice e su questo contrasto tra i due soggetti si innesca anche una sanzione penale di un soggetto che la trasmette a un altro è gravissimo a nostro avviso io capisco che si voglia assolutamente colpire soggetti che non operano lecitamente o che ritardano nel pagamento di tributi e le due associazioni lo condividono ma in me il metodo studiato e messo in pratica ancora una volta frenerà le imprese e l'economia il sistema maggiore che le due associazioni hanno individuato è quello se si vuole di provare a mettere insieme una piattaforma insieme imps e agenzia delle entrate per dare oltre che una regolarità contributiva come avviene oggi per il DURC anche una regolarità fiscale per le stesse imprese e soprattutto individuare i settori in cui questo va fatto non può ricadere su studi professionali o imprese di piccole dimensioni il limite previsto dei 2 milioni di euro di fatturato riguarda la gran parte dei soggetti sul territorio italiano e se mettiamo il caso che sono soggetti che non devono avere assolutamente un ruolo più di 50 mila euro ditemi quali sono oggi le imprese che non si ritrovano ad avere un contenzioso di 50 mila euro con un ruolo dell'agenzia riscossione io lascio la parola di San Marco per la descrizione degli altri articoli ma questi due ci premono in maniera particolare grazie molto brevemente grazie anche io il presidente e tutti gli onorevoli presenti naturalmente condividiamo tutto ciò che è stato detto fin qua però volevamo anche evidenziare altre criticità in primis l'articolo 18 la limite del trasferimento del denaro contante portato a 2 mila euro nel 2022 addirittura a mille euro abbiamo già avuto nel nostro paese e spesso ricorre questa volontà di limitare il trasferimento del denaro in Europa sappiamo che questo limite non c'è in molti paesi addirittura è libero completamente e in Italia già con il governo Monti questo limite era mille euro e dai report che sono emersi anche proprio in questi giorni abbiamo visto che negli stessi periodi la lotta all'evasione non è diminuita ma anzi l'evasione è aumentata quindi per certi versi si può chiaramente dire che non c'è stretta correlazione tra limitare il denaro e la lotta all'evasione quindi una riflessione su questo anzi per certi versi forse c'è anche una contrazione da parte dei consumi da parte dei cittadini perché la moneta elettronica in Italia ancora non è così diffusa non è così abituale purtroppo l'introduzione a moneta elettronica quindi carte di debito carte di decreto deve essere introdotta gradatamente non può essere di imperio per legge introdotta in maniera immediata ci vuole un cambio generazionale innanzitutto ci sono situazioni ancora oggi dove i pensionati vanno alle poste per ritirare in contanti l'intera pensione questa è la realtà dei fatti quindi pensare di imperio ridurre la circolazione del denaro contante credo che sia da valutare attentamente soprattutto ripeto necessita un cambio generazionale un nuovo anche graduale appunto intervento su quelle che sono le commissioni le commissioni ci è stato detto che bisognava intervenire su costi diretti e indiretti perché abbiamo costi diretti commissioni di transazioni costi diretti per tenere il poste negli esercizi commerciali abbiamo anche costi indiretti perché cosa da non valutare sono le valute che le banche applicano sul versamento delle transazioni e pensare così come predisposto dall'articolo 23 se non vado errato un credito d'imposta del 30% a carico dello Stato credo che sia un po' troppo limitativo soprattutto anche perché è previsto per le imprese che hanno un volume d'affari inferiore a 400.000 euro altro aspetto che volevamo sottolineare è la disciplina penale l'inastrimento delle sanzioni penali così come l'abbassamento della soglia pur condividendo o comunque comprendendo la motivazione quello della lotta alla grande evasione questo dovrebbe essere lo spirito della norma purtroppo va a colpire in molti casi anche coloro che invece hanno difficoltà nel pagare perché prevede proprio l'innalzamento delle pene ma anche l'abbassamento della soglia per i mancati versamenti purtroppo ci sono aziende che si trovano in forte difficoltà economica e si trovebbero non per loro volontà ma perché hanno dichiarato tutto perché sono emersi perché comunque hanno fatto il loro dovere a punto di vista dichiarativo purtroppo si trovano in difficoltà e quindi hanno difficoltà a pagare si troverebbero anche a dover far fronte a queste situazioni carattere penale una considerazione sull'articolo 14 sull'utilizzo dei file della fattura elettronica fermo restando che non è nostra intenzione entrare nel merito del specifico della norma però ci preme sottolineare un aspetto c'è un provvedimento del garante della privacy del 20 dicembre 2018 che impone all'agenzia dell'entrata la cancellazione del corpo fattura dei file trasmessi per chiari motivi il provvedimento è chiaro in questo senso io credo che ciò che esprime un'autorità indipendente del nostro paese debba essere in qualche maniera rispettato da tutte le parti in gioco sia da parte della pubblica amministrazione che da parte dei contribuenti pensare che e questo articolo è chiaramente diciamo così a gira se mi permettete il termine questo provvedimento pensare che la pubblica amministrazione possa non tener conto di un provvedimento del garante credo che non faccia bene nel rapporto di affidamento tra il contribuente e lo Stato un plauso per l'articolo 32 questo sicuramente sì ha fatto bene il legislatore a voler intervenire su questa situazione dell'IVA delle scuole guida perché si era venuta a creare una situazione paradossale e quindi veramente un plauso al governo e al legislatore in questo senso una ultima considerazione imposta di bollo articolo 17 un chiaro motivo di semplificazione abbiamo chiesto il versamento semestrale di questa imposta che è un'imposta residuale molti contribuenti hanno importi risibili da dover pagare crediamo che il pagamento semestrale sia nell'ottica di una semplificazione di una riduzione degli adempimenti che credo più volte sono stati espressi anche da questa commissione quindi ricordo il decreto semplificazioni Rocco Cusmeroli quindi credo che sia facilmente attuabile un passaggio di questo tipo grazie grazie a lei e vediamo interventi prego collega Migliorino poi Cusmeroli grazie presidente sì effettivamente molto veloci come descrizione soprattutto dei primi articoli che effettivamente vi chiederebbe un minuto in più per poterne discorrere effettivamente allora l'articolo 18 parlavamo un pochettino le critiche sul denaro contante perdonatemi ecco allora l'85% dei pagamenti avviene con denaro contante delle transazioni è stato regolato in contanti per un valore pari a 68 del 4% del totale mi riferisco quindi agli studi che ci hanno portato a compiere diciamo la riduzione da 3.000 a 2.000 euro e poi in futuro a 1.000 euro per il contante il valore medio di una transazione è di 13,57 euro mentre per le carte di credito di 37,70 cioè il 90% è stato inferiore a 40 euro quindi noi dobbiamo prendere una linea che è quella magari dell'utilizzo di carte magari prepagate di credito di debito come dicevamo prima per la sicurezza magari dell'esercente per la sicurezza magari dell'acquirente e questo non vuol dire l'obbligo e quindi non usare il denaro contante noi stiamo parlando di transazioni che avvengono sotto il limite di cui stiamo parlando quindi noi ci riferiamo a delle categorie dove non possiamo più dire che magari è il vecchietto anziano che magari non sa come pagare con la carta noi magari stiamo parlando di transazioni che possono avvenire ad esempio per delle aziende e quindi che un'azienda magari anche di un certo denore non sappia pagare non solo in contante mi sembra un po' particolare quindi diciamo la strada è quella tenendo presente comunque anche le vostre osservazioni per quanto riguarda l'articolo 14 parlava del garante della privacy ma che cosa si cerca di mettere si cerca di mettere un controllo che dovrebbe essere nell'interesse stesso magari dell'esercente per quanto riguarda il controllo ecco della fattura elettronica dei file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al dicembre dell'ottavo anno successivo eccetera eccetera e possono essere presi in considerazione dalla guardia di finanza ma questo comunque riduce una forte burocrazia che devono compiere i commercialisti piuttosto che gli esercenti quindi da questo punto di vista quei controlli che possono avvenire senza ulteriore lavoro del professionista magari andrebbe andrebbe bene ecco da questo punto di vista per quanto riguarda l'articolo 17 dell'imposta di bollo poi magari mi fermo perché ci sarebbero tante cose su cui discutere ma l'imposta di bollo sulla fatturazione elettronica voi sicuramente avete letto voi sicuramente avete letto che dall'anno prossimo questa comincerà ad essere automatica sempre nell'interesse di coloro che mettono fatture e che magari non hanno messo un'imposta da bollo da 2 euro perché magari supera gli 80 euro di fatturazione quindi questa a secondo del sistema ASD che comunque passeranno le fatturazioni elettroniche verrà conferito quando devono pagare per quanto riguarda l'imposta di bollo ora che questa possa avvenire in 3, 6 mesi un anno la verità qual è? è che comunque si cerca di togliere burocrazia di dare comunicazione di quante marche da bollo si voleva eccetera quindi si sta comunque cercando di arrivare a quell'idea di una compilazione magari automatica di un qualcosa che fa comunque un diciamo un un incentivo piuttosto che un'organizzazione burocratica quindi meno burocrazia da parte sia dell'esercente magari del contribuente sia da parte dei commercialisti che dovrebbero controllare anche qui queste minime osservazioni poi magari si può anche parlare per quanto riguarda io faccio parte della commissione antimafia degli appalti o dei subappalti anche in quel caso là va vista con grande fermezza quella invece che è successo in grandi aziende che magari toglievano il disturbo lasciando magari con un sacco di debiti coloro che invece stavano in subappalto questo va molto a favore di coloro che lavorano in subappalto e qua bisogna tenere presente che siamo in Italia che purtroppo c'è una situazione che va vista con molta attenzione e quindi questi articoli vanno a favore diciamo dell'imprendito di teoria che vuole essere legale che non deve avere una concorrenza sleale perché molte aziende purtroppo l'abbiamo visto in tante situazioni con le gare di appalto e di subappalto poi in verità lasciavano questi lavori incompiuti e con un grande peso invece sull'azienda di subappalto che magari erano oneste che volevano stare su un mondo del lavoro grazie grazie a lei qualcun altro accumuliamo tutte prego io volevo concentrarmi su articolo 3 e articolo 4 allora immaginiamo di avere un villaggio un villaggio che è composto da mille abitanti e ce n'è uno che vogliamo catturare no? noi cosa facciamo? gli spariamo sopra una bomba atomica? cioè questa è un po' la logica dell'articolo 3 e dell'articolo 4 cioè si vuole colpire le indebite e compensazioni o i subappalti o appalti diciamo critici ok? o indebiti e gli spariamo sopra una bomba atomica ammazziamo tutti tutti ammazziamo io lo dico soprattutto al Movimento 5 Stelle e allora noi abbiamo fatto una legge una legge possiamo dire di aver fatto una legge sulle semplificazioni che è finita nel decreto crescita che però è nata qua ma ce lo siamo letti l'articolo 4 cioè l'articolo 4 noi diamo in appalto poi l'appaltatore deve pagare le ritenute dei dipendenti di chi sta esercitando l'appalto ma dal punto di vista della semplificazione ma ci rendiamo conto che per pagare quelle ritenute da conto bisogna che qualcuno gli faccia la busta paga che quella busta paga deve essere poi quella giusta e che la ritenuta la deve versare un terzo cioè ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo ragionando oppure perché la realtà è una cosa e diciamo la fantasia è un'altra cioè questa roba qua è una roba che non sta né in cielo né in terra cioè io pago la ritenuta da conto di uno a cui dato un lavoro che ha dei dipendenti quindi solo quei dipendenti lì tra l'altro mica quelli che lavorano da un'altra parte solo quei dipendenti lì e che possibilità ho io di controllare quella busta paga cioè ma io mi appello ai colleghi che hanno fatto un processo di semplificazione qui stiamo lasciamo perdere il reverse charge che ha tutte delle criticità che noi abbiamo criticato tutti perché noi volevamo abolirlo il reverse charge noi tutti vabbè 5 stelle e lega noi volevamo abolirlo il reverse charge ok adesso qui lo mettiamo dentro cioè in più gli mettiamo una complicazione pazzesca le compensazioni fiscali ma anche qui ma ci sono delle persone che sono a credito fiscale eterno sempre sempre i professionisti tutti perché è logico c'hanno il 20% di ritenuta sui ricavi vogliamo fare una roba del genere la butto lì diminuiamo la ritenuta cioè ma però se si fa una roba del genere voi non recuperate il gettito parliamoci chiaro cioè queste due norme vengono fatte apposta per cioè è la cosa che abbiamo più criticato cioè un adempimento in più per recuperare soldi quindi si è messa la fattura elettronica per recuperare i 2 miliardi di gettito d'evasione recuperati sì recuperati no però la norma si è fatta gli ISA stessa cosa 3 miliardi da recupero d'evasione si sono messi gli ISA non gliene fregava nessuno degli ISA degli studi settori gli interessava recuperare i 3 miliardi da recupero cioè poterli appostare soprattutto poterli spendere qua la stessa cosa cioè si impone una cosa che non sta nel cielo in terra per colpire una povera non una povera una persona che agisce non correttamente in un villaggio di mille persone si ammazza un'intero un'intera nazione con una bomba atomica questo è l'articolo 3 articolo 4 quindi mi fa piacere che tutte e due le associazioni l'abbiano stigmatizzato ma io veramente vi dico questa roba qui è una cosa che non sta nel cielo in terra bene prego collega Paternosser vi raccomando la sintesi secondo questo mi rilascio al collega Gusmeroli e appunto sempre sull'articolo 3 e l'articolo 4 quanto ho detto dai commercialisti che queste problematiche ci sono le tempistiche la mancanza di liquidità e quant'altro ma capiamo anche se ci fossero anche delle contestazioni che ci sono tantissimo tra il committente e quello a cui dato l'appalto il subappalto cosa facciamo cosa succede e dopo tra l'altro non è assolutamente chiaro come si diceva il perimetro per cui si delimita appunto le aziende che devono sottostare a questo tipo di dico io giungla attenzione che qua invece di semplificare le cose cose che ne abbiamo di bisogno andiamo a incasinarle a livello simile quindi sarebbe cosa buona e giusta come si dice cercare di trovare una soluzione affinché queste cose non debbano avvenire altrimenti già le aziende sono messe alla carità perché hanno 100.000 vincoli e scadenze annuali o mai mensili più se ci aggiungiamo anche a questo di questo provvedimento io penso che la gente qua ci rispetti fuori grazie grazie a lei bene allora altri interventi prego molto velocemente grazie presidente sì perché effettivamente nel diciamo nel colloquio un pochettino che hanno avuto gli altri colleghi effettivamente però bisognava mettere un piccolo puntino su lei che noi di certo non volevamo abolire le versioni c'è ad esempio su Viva quindi questo non è vero grazie velocissimo prego sì presidente premesso che dirò tutto il contrario quasi tutto il contrario di quello ha detto il collega Gusmeroli perché viva Dio che c'è stata la fatturazione elettronica ma viva Dio che sono state una serie di strumenti che hanno permesso un under recupero del task gap perché dobbiamo dire che l'Italia è una delle peggiori da un punto di vista di task gap a livello europeo quindi questo è un tema che ci deve far riflettere dal punto di vista sull'articolo 4 io penso che alcune questioni siano giuste corrette nel senso che c'è un problema oggettivo sui termini del pagamento da parte del committente quindi è un tema che dobbiamo valutare nella discussione di questo provvedimento io ho una domanda sull'articolo 3 però ce l'ho nel senso che voi giustamente evidenziate altre tipologie a prezzo anche quando si fanno più che delle semplici lamentele anche una proposta effettiva come questa piattaforma Ips Agenzia cioè dobbiamo anche capire come rientriamo perché se cuba un miliardo il tema delle compensazioni vuol dire che un problema esiste cioè non possiamo o sono degli incapaci completi al MEF nel fare delle stime oppure c'è un problema rispetto ad alcune fattispecie poi voi evidenzate il problema IVA dei 10 giorni vi dicendo sollevate un po' meno il tema delle altre forme di compensazione su altre forme di imposte però mi sembra evidente o sotto i 5 mila dove non c'è il visto di confusione c'è qualcosa che non funziona nel sistema se abbiamo torno a dire un'evasione una compensazione non corretta quindi anche da questo punto di vista ci sono altri strumenti oltre a piattaforma pensate che il problema esiste oppure se lo sono inventati al MEF non credo all'Agenzia delle Entrate Allora un attimo finiamo non ho altri interventi quindi cedo la parola alla dottoressa cercando di stringere Allora parto dall'ultimo intervento così cerchiamo di rispondere no non pensiamo che l'Agenzia delle Entrate sia uscita pazza è ovvio che così come viene detto c'è un tax gap ma è ovvio che c'è un'evasione e un'indebita compensazione ci sarebbe piaciuto vedere nella relazione tecnica anche esattamente le cifre che l'Agenzia contesta per la compensazione e ci sarebbe piaciuto il riferimento puntuale preciso a quello che io ho evidenziato cioè quali sono le indebite compensazioni dei professionisti cosa che non trovo nella relazione tecnica perché sull'articolo 3 che ho detto specificatamente che magari potrebbe essere a mio avviso comunque danneggia alle imprese ma limitato ad alcune tipologie non ha veramente alcuna ragione d'essere sui professionisti le indebite compensazioni che io sappia da non dai dati che viene fornita dall'Agenzia delle Entrate ma da dati che vengono forniti da altri enti è veramente minimale e i professionisti sono quelli più colpiti in questo articolo 3 ed sono quelli che mi interessa tutelare in questo momento non posso e non voglio pagare una ritenuta a conto del 20% che a volte costituisce un credito consistente tanto da pagare tutta l'IVA di uno stesso professionista di un ceto medio che va dai 30 ai 150 mila euro è indecente è indecente per ogni tipologia di categoria ma soprattutto per una categoria che questo paese lo aiuta tutti i giorni perché ai professionisti è stata demandata gran parte della burocrazia e dell'innovazione tecnologica di questo paese non ci sono stati concessi alcun tipo di crediti d'imposta mi sembra il minimo consentirci di utilizzare un credito che è nostro e non attendere 12 mesi per poterlo fare vengo all'articolo 4 non c'è dubbio che ci siano anche lì delle indebite non solo compensazioni ma delle aziende che in maniera furbescamente non paghino le ritenute dei propri dipendenti sarebbe inutile negare la realtà come è inutile però in quanto troppo faragginoso pensare a una norma che invece di aiutare a scoprire quelle poche imprese penalizza anche le imprese oneste il meccanismo che il legislatore ha ipotizzato in quell'articolo 4 non si può mettere in pratica è impossibile da realizzare nei tempi in cui il legislatore lo ha previsto non posso fare una busta paga prendere trovare la provvista indicarla al committente disputarmi con il committente se le opere che sto svolgendo sono svolte correttamente e se nel qual caso il corrispettivo mi è dovuto non posso innescare una sanzione penale da un soggetto all'altro facendola passare come se nulla fosse non è una norma tributaria stiamo parlando di una sanzione penale io dubito e ci rivolgeremo a un giurista che sia costituzionale signori miei lo dubito dubito che una sanzione penale può essere trasmessa a un soggetto che non ha niente a che fare in quel rapporto di lavoro io non dico che le finalità e gli obiettivi della legge non siano giusti lo sono profondamente e lo sono convinta dico che il meccanismo pensato non è attuabile non posso dare la busta paga dei miei dipendenti e scorporarla perché questo ci chiedete da fare un singolo dipendente può fare in un mese cinque lavori quella busta paga va divisa in cinque parti e ciascuna delle cinque ritenute va pagato da cinque soggetti diversi ma stiamo parlando di un delirio stiamo parlando di un delirio non di una norma di un delirio signori miei ve lo dicono i tecnici ma non perché vogliamo aiutare gli evasori ma non ci sogniamo minimamente perché è irrealizzabile quello che avete previsto grazie io molto brevemente volevo rispondere all'onorevole Migliorini per quanto riguarda le aziende se la la riduzione del limite del trasferimento del contante è rivolto per per le aziende le aziende già effettuano pagamenti tracciati perché io sfido oggi a a vedere aziende società che pagano in contanti i propri fornitori è già tutto tracciato quindi non non è questo a mio modo di vedere la razza della norma chi la diciamo si è strutturata invece è bene chiarire che ricordare che siamo il terzultimo paese in Europa come digitalizzazione e come digitalizzazione vuol dire nonostante l'impegno che hanno messo i commercialisti a digitalizzare questo paese perché è bene ricordarlo in questi 25 anni ma al di là di questo come gap di digitalizzazione è anche l'uso la dimestichezza e l'affidabilità dei sistemi di pagamenti elettronici purtroppo non è così quindi ci vuole un cambio culturale ripeto un cambio anche generazionale che avverrà piano piano perché quelli che andiamo a colpire con il limite del denaro sono i consumatori finali principalmente non sono le aziende che già pagano ripeto tutto in maniera tracciata tracciata e quindi andiamo a colpire chi va a comprare il televisore il dipendente che va a comprare il televisore lo vuole pagare ci sono dei televisori che costano anche più di 1000 euro e pensiamo che in Germania si va a comprare un Mercedes da 150.000 euro si paga in contanti non si sa perché il tax gap anche in Germania è molto alto quindi perché bene sfatare anche questo discorso quindi è un pochino tutto aleatorio gli F24 faccio presente gli F24 già dovevano essere messi a disposizione dall'agenzia di entrate quindi non è qualcosa che deve avvenire agli F24 già oggi gli F24 l'imposto di bollo mi scusi sull'imposto di bollo l'agenzia di entrate poi che siano errati quegli F24 che vengono messi ci siamo accorti l'abbiamo detto più volte e quindi verrà affinato il sistema ma l'imposto di bollo ripeto è talmente residuale come imposta che pensare di poterla pagare semestralmente anziché mensilmente con F24 credo che sia un atto di buon senso il garante della privacy è l'ultimo aspetto visto che è stato fatto riferimento all'articolo 14 faccio presente che il nostro intervento come è scritto nella relazione che abbiamo depositato non è tanto nelle motivazioni a parte che non può essere la garanzia del mantenimento per otto anni del corpo centrale della fattura non mi si può passare che è a garanzia del contribuente dell'impresa tutt'altro è per fare determinate azioni di controllo e di accertamento ma questo è un altro discorso ma non si discute quello si discute il fatto che c'è un provvedimento o l'autorità garante viene abolita e può essere anche una volontà altrimenti mettere nell'articolato l'articolo 14 mettere in fondo che comunque si farà riferimento al garante e troveremo il modo di coordinare è impossibile coordinare quella norma con la privacy il garante è stato chiarissimo il 20 dicembre a meno che non ci sia la volontà espressa del contribuente il corpo fattura è da annullare perché non è fiscalmente rilevante ma è fiscalmente rilevante la parte centrale di testa e di coda un minuto e poi chiudiamo perché abbiamo le persone che aspettano 30 secondi la parte dell'imposta di bollo che diceva l'onorevole non è corretta nel momento in cui lei dice che le fatture per superiori a 80 euro devono inserire l'imposta di bollo l'imposta di bollo viene inserita laddove nel corpo e la fattura il committente a debita a soggetto che ha acquistato la prestazione delle cifre non soggetti ad IVA ancora oggi l'agenzia all'entrata e tutti noi tecnici ci interroghiamo sulla debenza di questa imposta di bollo quindi aspettiamo anche da parte dell'agenzia all'entrata un chiarimento in ordine al fatto che questa imposta di bollo sia un onore l'accessorio e quando è opportuno applicarla poi mi volevo rivolgere in merito all'articolo 4 in cui l'onorevole ha individuato il tax gap c'è anche un oggettivo problema di trattamento dei dati di un soggetto il committente che non dovrebbe neppure condividerli e conoscere i dati personali che riguardano il lavoratore dipendente che in quel momento viene utilizzato anche con i mezzi del committente nell'opera e nel servizio per non parlare della gravità della norma in cui si parla di tutte le imprese non soltanto scusate l'articolo 25 viene richiamato dal DPR 673 in cui si considerano non solo le imprese ma anche le associazioni senza scopo di lucro e i professionisti le faccio un esempio un asilo privato che dà magari servizio mensa all'esterno sarà costretta ad impiantare all'interno della sua organizzazione un operato tale da avversare le ritenute da conto da una parte e ci pensa lei quindi assurdo questo e poi invece chi esegue la prestazione l'impresa appaltatrice dovrebbe versare da parte sua i contributi quindi c'è un doppio canale chi versa le ritenute IRPEF addizionali comunali regionali e chi versa i contributi IMS la nostra proposta era quella di una condivisione di dati tale da poter consentire all'agenzia delle entrate o una struttura ad hoc perché se dobbiamo investire diciamo sulle strutture dello Stato che investiamo sulla tecnologia ma soprattutto su comparti dello Stato che vadano ad interrogarsi a investigare puntualmente quello che accade nella realtà economica l'agenzia delle entrate oggi ha un sistema virtuoso che riguarda le LIPE le liquidazioni periodiche e i versamenti dell'IVA trimestrale ok in tempo reale riesce a trovare chi è quel soggetto che dalle proprie comunicazioni poi non fa emergere il comportamento virtuoso nel pagamento dell'IVA ebbene si può estendere in questo tipo di ragionamento anche a queste situazioni intersoggettive in cui ricordiamo ad oggi la norma non fa capire a quali settori si applica sappiamo solamente che si esclude alla pubblica amministrazione questo meccanismo se il professionista che affida a un terzo i servizi di pulizia del suo studio e lì c'è il reverse charge per esempio debba pagare se io devo pagare le ritenute da conto laddove l'impresa che appalta questo servizio utilizza per avere il personale allora così facendo magari che cosa succede che noi ci serviremmo di soggetti così piccoli che non hanno personale dipendente e sostanzialmente sui quali non è necessario operare nelle ritenute da conto ci siamo o le ritenute ai finiti fiscali tutto qua volevo salve salutiamo i nostri rappresentanti dell'associazione e ci vediamo presto grazie grazie a tutti 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 indifferita indifferita sulla web tv della camera dei diputati la commissione oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2220 di conversione in legge del decreto legge 124 del 2019 recanti disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili saluto quindi i rappresentanti di AB la selezione bancaria italiana in particolare il direttore generale dottor Giovanni Sabatini qui di fianco a me dottor Gianfranco Torriero vice direttore generale dottor Andrea Nobile responsabile dell'ufficio consulenza tributaria e contabile dottoressa Maria Carla Gallotti responsabile dell'ufficio rapporti istituzionali e basta perché darei quindi loro la parola invitandoli a contenere la reazione illustrativa sul provvedimento in una decina di minuti al massimo anche al fine di lasciare adeguato spazio alle domande da parte dei colleghi grazie 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 presidente grazie onorevoli deputati per l'opportunità di partecipare a questa audizione ed esprimere il punto di vista del mondo bancario sul provvedimento alla vostra attenzione grazie anche a nome del presidente Patuelli permettetemi una brevissima introduzione di contesto sul quadro in cui il disegno di legge si inserisce e sull'attività bancaria da un lato il quadro economico si caratterizza per un marcato indebolimento della crescita a livello internazionale e ahimè la crescita ristagna in Italia osserviamo che il PIL italiano è cresciuto solo dello 0,1% nel trimestre e rispetto ai livelli di PIL del 2008 il delta è ancora inferiore del 5% e soprattutto gli investimenti registrano un differenziale negativo del 18% gli elementi positivi in questo momento sono rappresentati dalla rilevante riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi a scadenza decennale e questa riduzione ovviamente crea degli spazi di manovra fiscale e quindi risparmi che possono essere utilizzati per stimolare la crescita economica in questo contesto il settore bancario continua a il processo di rafforzamento in particolare la pulizia dei bilanci in particolare le sofferenze nette che erano che sono ridotti a circa 32 miliardi di euro in calo del 20% rispetto all'ultimo anno ma soprattutto più che dimezzate una riduzione del 64% rispetto al picco registrato nel 2015 un ulteriore elemento positivo è che il tasso di deterioramento del credito cioè il flusso di nuove crediti deteriorati è tornato su valori minimi storici quindi dati di prima della crisi intorno a un 1,4% nel secondo trimestre del 2019 i livelli di patrimonializzazione sono aumentati l'indicatore di capitale di migliore qualità si colloca al 13,5% sugli attivi ponderati per il rischio un livello simile a quello medio europeo e anche l'erogazione del credito al settore privato anche se con una dinamica in rallentamento continua ad essere positiva anche se con una distinzione tra l'andamento del credito alle imprese e l'andamento del credito alle famiglie venendo ora al al disegno di legge e quindi ai temi di interesse per il settore ovviamente il disegno di legge si caratterizza per una focalizzazione su misure volte a combattere l'evasione fiscale contributiva e il riciclaggio sono fenomeni interdipendenti tra loro che minano lo sviluppo ordinato ed equilibrato delle dinamiche di mercato e alterano la concorrenza tra le imprese e quindi da questo punto di vista l'associazione bancaria esprime un supporto a questo rinnovato impulso al contrasto a questi comportamenti illegali anche se in questo contesto è necessario l'adozione di un approccio pragmatico rispettoso delle libertà individuali come ad esempio quella di scegliere le forme di pagamento e in questo contesto l'uso del contanti è nei limiti in cui questo è consentito dalla legge un diritto civile è ovvio che il suo abuso evidenzia il più delle volte operazioni illecite di evasione fiscale e di riciclaggio e quindi da questo punto di vista come più volte espresso anche dal nostro presidente l'approccio preferito preferibile è quello di introdurre misure di incentivazione quindi di incoraggiamento a utilizzo di strumenti di pagamento elettronici tracciabili da questo punto di vista non abbiamo mai preso posizione circa l'ipotesi di modificare i tetti all'utilizzo del contante ma abbiamo soltanto evidenziato che in un mercato integrato come quello europeo un'eventuale fissazione di tetti avrebbe un senso laddove scaturisse da una misura adottata a livello europeo e non nazionale data la libera circolazione di persone merci e servizi osserviamo che in Italia l'uso di carte di credito e di debito è ancora notevolmente inferiore e limitato rispetto alla media europea il numero di operazioni pro capite in Italia è circa 111 l'anno contro una media di 261 a livello europeo e nei paesi più avanzati oltre 4 volte nonostante il numero di carte di credito e di pos sia molto elevato ma in realtà quindi c'è uno scarso utilizzo dello strumento e anche osserviamo rispetto ai comportamenti medi europei una diversa composizione nell'utilizzo degli strumenti alternativi al contante quindi assegni bonifici disposizioni di incasso e tutte queste misure sono e tutti questi strumenti sono in competizione tra loro e possono comunque realizzare l'obiettivo di una riduzione dell'utilizzo del contante da questo punto di vista e quindi nell'ottica di incentivare l'utilizzo di strumenti alternativi al contante l'idea inserita nell'articolo 22 del disegno di legge e che estende la positiva esperienza maturata nel settore dei carburanti del credito d'imposta anche agli altri esercenti ci sembra una misura corretta e importante visti gli ottimi risultati ottenuti appunto nel settore dei carburanti per facilitare l'utilizzo degli strumenti alternativi di pagamento al contante anche se nell'articolo 22 poi vi sono delle misure su cui occorrerà verificare la concreta attuazione in particolare per quello che riguarda le modalità con cui si richiederà agli intermediari e ai fornitori di servizi di pagamento di trasmettere quindi con che modalità e con che tempi le informazioni necessarie per consentire poi agli esercenti l'utilizzo del credito d'imposta così come anche sicuramente importanti le norme volte a rendere maggiormente tracciabili flussi di pagamento e a contrastare l'evasione fiscale e l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore del gioco online ma anche in questo caso occorrerà valutare con pragmatismo e equilibrando costi e benefici delle norme che prevedono il divieto per gli intermediari poi di effettuare i trasferimenti di somme di denaro nei confronti dei soggetti che raccolgono giochi in Italia laddove ci sia una mancanza di concessione o di un altro titolo abilitativo venendo da altri due articoli di rilievo per il settore bancario mi riferisco in particolare all'articolo 39 che prevede una revisione dell'apparato sanzonatorio penale per i reati tributari e quindi con la contestuale introduzione della cosiddetta confisca allargata in caso di condanna per reati che presentino specifiche caratteristiche di offensività e la modifica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ecco qui in particolare assume rilievo l'abrogazione di una disposizione contenuta nell'articolo 4,1 ter del decreto legislativo 74 del 2000 in base alla quale le valutazioni di bilancio che singolarmente considerate differivano in misura inferiore al 10% da quelle corrette oltre a non assumere rilevanza penale non concorrevano nemmeno alla verifica del superamento delle soglie di punibilità per la configurazione del reato di infedele dichiarazione in questo caso la intervenuta abrogazione di questa norma determina rilevanti profili di incertezza per le imprese in particolare per quelle imprese caratterizzate da bilanci nei quali la componente valitativa assume rilievo e in alcuni casi di priminenza questo alla luce dei nuovi principi contabili internazionali e soprattutto anche in relazione alle norme di vigilanza prudenziale è il caso ad esempio della valutazione dei portafogli di crediti deteriorati quindi una norma che può avere un particolare rilievo per il settore bancario ora la disposizione che viene abrogata nella relazione illustrativa del decreto legislativo numero 158 del 2015 motivava questa disposizione in ragione di competitività del quadro regolamentare ora la cancellazione di questa norma ma di nuovo corre il rischio di mettere in particolare il settore bancario in una posizione di disparità rispetto a altri settori bancari pur facendo parte dell'unione bancaria e quindi di un'area che in qualche modo dovrebbe essere considerata come un'unica giurisdizione dove non solo la armonizzazione delle regole prudenziali di vigilanza garantisce una vera integrazione del mercato ma anche ogni norma nazionale che determina un mancato livellamento del terreno competitivo crea situazioni di difficoltà e quindi nel caso specifico per le banche italiane sempre l'articolo 39 il comma 2 contiene la previsione che era prima assente nel nostro quadro giuridico la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per la commissione di reati di natura tributaria nella previgente quadro normativo questi reati rientravano nel perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 solo se costituivano il cosiddetto reato base dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio nella relazione illustrativa si spiega che questa modifica deriva dall'applicazione nel nostro ordinamento delle previsioni adottate dal legislatore comunitario in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea ma in realtà di nuovo qui si tratta di un'implementazione nel quadro normativo di una norma dandogli un ambito di applicazione molto più ampio in effetti la direttiva in questione in fase di recepimento in Italia ha un ambito di applicazione più circoscritto perché riguarda soltanto i reati IVA trasnazionali e connotati da una particolare gravità quindi anche in questo caso si corre il rischio di avere un disallineamento rispetto alla norma europea ecco direi che questi sono i due elementi di principale attenzione che volevamo portare alla vostra attenzione elementi positivi che cito semplicemente sono poi quello della decisione di rifinanziare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per complessivi 670 milioni per il 2019 il fondo di garanzia è stato e continua ad essere uno strumento importante per continuare a ridurre il rischio di credito delle piccole e medie imprese quindi per contrastare gli effetti del rallentamento economico così anche le misure di semplificazione degli adempimenti fiscali già avviati con la dichiarazione 730 precompilata sono un elemento positivo contenuto nel disegno di legge io Presidente mi fermerei qui ovviamente sono a disposizione per tutte le domande che loro ritengano opportune ci sono domande onorevole Curro grazie Presidente sì effettivamente quello che stiamo valutando dalle audizioni è una velata forse critica o magari modifica più che altro all'articolo 4 relativamente agli appalti e ai subappalti e anche per quanto riguarda l'uno ter fuori dai casi in cui a comma 1 bis non hanno dato luogo a fatti punibili le valutazioni che sicuramente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto della verifica del superamento della soglia di punibilità previste dal comma 1 e questo viene abrogato ora visto che stiamo in adduzione visto che anche dalla sua relazione si aspica un lavoro parlamentare su queste diciamo almeno su questi punti e ci potrebbe dare diciamo un'indicazione un consiglio su come secondo lei si dovrebbe intervenire grazie altre domande nessuno bene grazie onorevole in effetti nella mia esposizione avevo saltato questo passaggio ma anche questo è un punto di attenzione e quindi la sua osservazione è particolarmente rilevante in effetti anche con altre associazioni di impresa avevamo portato all'attenzione anche del ministero dell'economia i rischi che pur nel condivisibile intento di contrastare l'evasione fiscale la soluzione trovata nel decreto come anche indicato dal dossier dell'ufficio studi del senato in realtà comporta più oneri che vantaggi quindi un confronto tra costi e benefici della soluzione adottata è sicuramente sfavorevole quindi in questo caso il ribaltare di fatto su sull'impresa che dà l'appalto tutto l'onere anche di fatto finanziario della misura ci sembra sproporzionato rispetto al risultato che si intende ottenere con le regole ungano grazie presidente intanto grazie per la relazione direttore una loro tornare sull'articolo 39 e chiederle se possibile elaborare ulteriormente l'argomento e diceva che l'articolo 39 introduce in materia di ratti tributari delle aspetti che potrebbero rendere il nostro sistema bancario meno competitivo e che in realtà non è che si adegua all'intenzione del legislatore comunitario in quanto il legislatore comunitario intendeva soltanto le maxi frodi IVA oltre una certa soglia allora se lei può elaborare due un attimo su questa questione quali sarebbero le modifiche che lei propone se è soltanto un'adesione chiara all'intenzione della direttiva europea o in altra veste e soprattutto perché l'ha detto ma volevo chiedere di elaborare un po' ulteriormente per quale motivo renderebbe il nostro sistema bancario o meno competitivo in confronto all'altro settore degli altri paesi un'altra domanda che non ha a che vedere col decreto ma molto rapida visto che abbiamo la fortuna di averla qui in audizione se le posso chiederle un suo parere sulle GACS in quanto i suoi soci avrà visto a fonte stampa la stampa che si dice che queste GACS potrebbero avere dei livelli di escursione superiore a quelli previsti o comunque insomma un tema che avrà visto nella stampa negli ultimi tempi volevo sentire un po' l'opinione sua dell'associazione e dei suoi soci se a riguardo sono state utili o se bisogna rivederle in caso per il futuro grazie grazie se mi consente parto da quest'ultimo tema perché questa mattina abbiamo avuto la possibilità di avere un incontro con i rappresentanti della Commissione Europea che sono in Italia e stanno facendo le analisi poi per redigere il rapporto sull'Italia che sarà poi presentato all'inizio del prossimo anno e uno dei temi ovviamente era quello dell'andamento dei crediti deteriorati e di come in effetti l'Italia e quindi il settore bancario italiano era riuscito in tempi relativamente brevi a ridurre drasticamente l'ammontare di crediti deteriorati da questo punto di vista se guardiamo i dati relativi alle cessioni di portafogli di crediti deteriorati che hanno di fatto portato ai risultati di dimezzamento più che dimezzamento dello stock in particolare di sofferenze negli ultimi due anni di 2018 e 2019 di fatto abbiamo avuto cessioni dell'ordine di vado a memoria 70 miliardi nel 2018 qualcosa di intorno ai 65 66 nel 2019 gran parte di queste operazioni sono state rese possibili effettivamente dallo schema delle garanzie previste sulle tranche senior delle operazioni di cartolarizzazione peraltro quello che abbiamo rappresentato poiché il tema dei crediti deteriorati non è un problema soltanto italiano e attraverso anche contatti con l'associazione bancaria di altri paesi ad esempio in Grecia stanno studiando di copiare il nostro modello avevamo suggerito alla commissione europea che questo potrebbe diventare uno strumento europeo e quindi dotato di un quadro normativo europeo di nuovo per garantire sempre un'assoluta omogeneità dei comportamenti e degli strumenti a livello europeo quindi la nostra valutazione è assolutamente positiva è stato uno degli strumenti che effettivamente ha consentito di raggiungere questo importante obiettivo anche proprio per una valutazione più complessiva della stabilità del paese di riduzione degli stock di crediti deteriorati che sono poi la pesante eredità della grande crisi finanziaria per quello che riguarda l'articolo 39 qui rispetto al tema al profilo della responsabilità della amministrativa della persona giuridica qui lei stesso diceva la cosa migliore sarebbe recepire la direttiva nei limiti in cui questa è scritta è un tema generale è fondamentale che il legislatore nazionale non vada mai oltre in quello che viene definito nella terminologia europea il goal plating cioè fare qualcosa di più perché ovviamente con l'unione bancaria che oggi di fatto compie il suo quarto anno di attività è necessario che tutte le normative quindi anche quelle fiscali quelle del diritto fallimentare il diritto societario siano il più possibile allineate e quindi questo è un caso dove una applicazione così come scritta oggi nel disegno di legge porterebbe a un disallineamento e così come anche sempre nell'articolo 39 facevo riferimento al tema delle valutazioni di nuovo noi avremo a breve l'entrata in vigore della normativa che richiede alle banche il cosiddetto calendar provisioning cioè l'accantonamento a fronte di crediti deteriorati basato di fatto su automatismi legati al passare del tempo e questi non sempre possono trovare riscontro nelle effettive possibilità di recupero del credito basate sull'analisi delle seglie storiche questo è stato un tema che a suo tempo affrontammo nella dialettica con le istituzioni europee però ormai quella è una norma contenuta nel regolamento sui requisiti di capitale europeo e quindi a quella dovremo adeguarci è chiaro che in questo contesto questa divergenza laddove potesse far scattare addirittura fattispecie penali renderebbe metterebbe le banche italiane una situazione sicuramente molto diversa per cui saremmo di fatto costretti ad avere un doppio binario cioè fare accantonamenti che rispettano il requisito della normativa prudenziale e allo stesso tempo per fini fiscali e civilistici fare un altro tipo di accantonamento e quindi poi sulla differenza andare a pagare delle imposte ulteriori e quindi con ulteriore penalizzazione della redditività del settore grazie ci sono altri interventi bene allora ringraziamo i rappresentanti dell'ABI e ci vediamo presto grazie per la collaborazione grazie a tutti 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 il nostro ciclo di audizioni pomeridiano anche questa audizione pove non vi siano obiezioni sarà trasmessa scusate signori sarà trasmessa sulla web tv della camera dei deputati La Commissione è oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame di disegno di legge 2220 di conversione in legge del Decreto Legge 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Saluto subito i rappresentanti di Bancomat, Mastercard, Visa e American Express. Buon pomeriggio a tutti. Darò subito loro la parola, invitandole a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una decina di minuti al massimo, anche al fine di lasciare poi spazio al successivo dibattito. Con l'occasione do subito la parola al dottor Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat S.p.A. Buongiorno, grazie. Io credo che userò molto meno di dieci minuti a mio disposizione. Volevo intanto parlare di Bancomat S.p.A. che non è una funzione di pagamento, è un circuito che fa oggi 2 miliardi di operazioni, che ha 35 milioni di carte e che ha 420 aderenti, che sono praticamente tutte banche, email e istituti di pagamento. Quindi il Bancomat spesso viene contrapposto alle carte di credito, in realtà il Bancomat è uno dei circuiti di carte di debito in Italia. Quindi questa è una precisazione importante. Per quanto riguarda la manovra, noi abbiamo un giudizio assolutamente positivo. Credo che gli incentivi servano a innalzare la modernizzazione del Paese. Noi siamo fanalino di coda in tante classifiche in Europa e nel mondo. Quindi da questo punto di vista riteniamo che la politica messa all'interno della manovra sia quella corretta. auspichiamo che su tutte queste misure, in quelle che poi saranno, non so se li chiamo giustamente, i decreti attuativi, ci siano poi delle misure che siano concretamente poi fattibili e fattuali, senza grossi impatti. Faccio riferimento per esempio al dover censire settori merciologici che poi non debbano avere all'interno degli operatori degli impatti di costo importanti. L'unico appunto che faccio sulla manovra è nell'articolo 22, quando nel dossier si parla del tema di chi è tenuto a dare all'Agenzia delle Entrate le informazioni circa il tema degli incentivi. E qui viene dettato come titolare di questo trattamento, di questo ruolo, l'ishware. L'ishware è colui che dà la carta a chi spende. In realtà il calcolo delle commissioni è un ruolo che non può aspettare all'ishware ma aspetta all'acquirer, cioè l'acquirer è quella banca che convenziona il merchant e quindi solo lui potrebbe sapere quali sono i reali impatto di queste commissioni. Abbiamo letto nelle schede del dossier delle disposizioni che invece questo tema viene legato alla parte di issuing ma secondo noi è soltanto da correggere. In particolare per quanto riguarda il... Fra le norme mi sembra che quella migliore che poi abbiamo notato sia stata molto di successo negli altri paesi è quella proprio della detrazione d'imposta da parte dei merchant. Quindi mi fermo qui per dare diciamo quello che è il nostro pensiero sulla manovra. Grazie e volete intervenire tutti? Bene, allora qualcuno vuole intervenire per domanda? Grazie Presidente, grazie per la concisione e la chiarezza e grazie di essere venuti. All'altere molti esercenti in Italia del PMI o commercianti lamentano livelli di commissioni per le categorie di debito estremamente elevate. E i nostri paesi chiaramente fanno vedere tutte le statistiche, siamo indietro sia nell'utilizzo delle carte di debito. Io devo sapere appunto da voi, dagli istituti che rappresentate, quanto sia veritiero. A me mi sembra che i numeri fanno vedere una diminuzione ma, correggetemi se sbaglio, rimaniamo con le commissioni più elevate a livello europeo. Se non è così, se potete dare alcuni dati da condividere con la commissione e se ci sono altre misure che voi potreste consigliare e commissare per incentivare appunto un migliore, un maggior utilizzo appunto dei pagamenti elettronici da alcune carte di credito. Allora, intanto, ripeto, il circuito delle carte Bancomat non è unico ma ci sono più circuiti delle carte di debito che fanno fra loro concorrenza rispetto ai merchant e agli esercenti che quindi hanno profili commissionali diversi, da sempre diciamo il pago Bancomat è quello molto apprezzato, molto competitivo. Noi però non facciamo questo tipo di attività perché noi come circuiti fissiamo due cose. La prima cosa è che fissiamo un costo a transazioni per i nostri clienti che sono le banche e poi l'altra cosa che facciamo è che fissiamo l'interchange fee. Peraltro l'interchange fee che è quella commissione che va dalla banca acquirer verso la banca issuer che cinque anni fa è stata regolata a livello europeo con un cap di 20 basis point quindi all'interno del quale ci si può muovere ma è un tetto. Noi peraltro su alcuni prodotti molto avanzati come Banco Appay azzeriamo queste commissioni fino all'importo di 15 euro. Per quanto riguarda i prezzi in generale, premesso che noi non abbiamo questo compito e non possiamo averlo c'è da dire che il nostro livello commissionale non è assolutamente superiore, anzi a volte inferiore ai livelli europei al quale aggiungo anche un altro aspetto. Noi abbiamo un'offerta di coloro che convenzionano i merchant che è numericamente più elevata che negli altri paesi europei quindi nel nostro paese c'è un'offerta più ampia per quanto riguarda il merchant che vuole accettare i nostri pagamenti. La normativa non è sempre omogenea perché il pagobanco atto opera sul mercato italiano e quindi rispetta delle regole più domestiche poi ci sono i circuiti internazionali che invece hanno altri tipi di normative. In più, sempre sul profilo commissionale, noi riceviamo da banche estere che danno la carta ai propri clienti delle transazioni dai turisti, tanto per essere chiari, e che quindi potrebbero avere un documento da questo. Noi stiamo su una filiera, facciamo il circuito a queste commissioni che noi fissiamo, che sono quelle di circuito poi i singoli operatori fanno le loro politiche commerciali. Ricordo che la filiera dei pagamenti è una filiera complessa e variegata perché oltre al costo di circuito esiste un costo dei processor, cioè coloro che poi rendono operativa e rendono fattuale la transazione esistono i gestori terminali, esistono i produttori di posto, quindi la filiera è ampia e variegata. Però, ecco, dal nostro punto di vista non ci sembra che i prezzi siano superiori a quelli degli altri paesi dove peraltro la penetrazione è più ampia. Per quanto riguarda eventuali meccanismi di regressione, noi li abbiamo già e li osserviamo perché nel decreto del MEF del 51 del 2014 c'è già un obbligo di inserimento nei contratti di convenzionamento fra soggetto acquario ed esercente una clausola di revisione periodica delle commissioni che deve essere almeno con cadenza annuale e che deve essere correlata da una parte all'andamento dei volumi e dall'altra anche al fatto che la commissione interbancaria quella di cui parlavo all'inizio potrebbe cambiare. Quindi, detto ciò, poi noi siamo disponibili a interagire e a parlare. Però, tanto per far chiarezza, non pensiamo che le commissioni d'Italia, pur non determinandole noi direttamente, siano superiori a quelle europee. Grazie. Prego, Collega Miri. Grazie, Presidente. Ora, mi viene una curiosità, quindi una domanda. Il guadagno delle vostre aziende si basa soltanto sulla transazione o anche sulla gestione del denaro che poi magari transita sul vostro circuito. Detto questo, sappiamo che in Svezia, come è già stato detto diverse altre volte, il pagamento mediante metodi alternativi che non si è contante è circa l'80%. In Italia siamo fermi al 19%. Però, confrontando l'Italia, un paese di 65 milioni di abitanti con una forte economia, in confronto a quello della Svezia, che comunque con un certo numero di abitanti intorno ai 4 milioni e con un'altra economia, non sarebbe utile aiutare l'utilizzo appunto di metodi alternativi mettendo dei limiti magari alle transazioni, quindi diciamo azzerandole fino a quei 10 magari euro o magari 30 euro, non lo so, e riuscendo a capire se c'è un'altra forma di guadagno che non sia soltanto appunto il costo della transizione che può avvenire sul commerciante piuttosto che sull'utente finale, tenendo presente il grande mercato che può risultare l'Italia nell'indicazione magari di portarli in breve tempo, diciamo ad un 40% di quello che già avviene. Ripeto quello che dicevo per quanto riguarda i circuiti, i circuiti guadagnano da una fee che prendono dalla banca, quindi noi dal punto di vista del rapporto il nostro mercato è un mercato B2B, quindi noi non abbiamo altri ricavi se non quelli che per ogni transazione riceviamo un prezzo, un costo dalla parte acquarica e dalla parte dell'ISFER, quindi qualsiasi altro ragionamento da questo punto di vista risulta complicato per noi, però mi lasci anche dire che nell'economia generale e qui parlo dei miei soci bancari, la transazione ha subito già dopo l'avvento dell'IFR cinque anni fa un forte ridimensionamento di marginalità, perché i livelli commissionali, infrabanche sono scesi fino a 20 basis point, quindi da questo punto di vista riteniamo che il business dei pagamenti sia un business a marginità estremamente ridotte, quindi non vedo dei grandissimi spazi. Poi tutto si può fare, noi abbiamo già fatto una nostra politica per esempio su Banco AdPay che è il nostro sistema di pagamento digitale e lì abbiamo attuato una politica sempre verso le banche di azzeramento delle commissioni, sia fra banche sia direttamente come ricavo nostro. Era per chiedere se devono intervenire anche gli altri per le singole realtà che rappresentano o è da considerare come relazione dell'audizione solo quella che è stata fatta? Abbiamo la relazione che abbiamo già ascoltato. Allora Presidente posso chiedere, perché credo che sia un tema sul quale tutti gli italiani si chiedono laddove si vada ad aumentare o a imporre anche l'utilizzo di carte, il tema che tutti insomma sollevano è quello del costo che poi il cittadino, sia esso imprenditore o consumatore deve sostenere. Anzi, su questo, ahimè, circolano anche delle cose particolari, passano la differenza fra spendere 100 euro e invece pagare con la carta che poi questa arriva alla fine, che ci rimette e che non ha, come dire, da quello che ha incassato non gli rimane più niente. Purtroppo c'è anche chi racconta queste favole. Però si vive in questo momento e per molti questa è la verità, il Vangelo, quello che viene veicolato. Però ecco, io credo che il tema sul quale dovremmo tutti quanti fare un'attenta riflessione è il costo non solo dell'operazione ma anche, ad esempio, i post che vengono consegnati e credo che anche questo sia un tema sul quale bisognerebbe precisare meglio. Grazie. Grazie a lei. Qualcuno vuole replicare, altrimenti... Allora, Luca, corti di Mastercard. Allora, ripico un attimo la domanda, poi magari due parole su chi è Mastercard, giusto per inquadrare Mastercard. Allora, sul tema delle commissioni, ovviamente il collega di Bancomat ha espresso molto bene il nostro punto di vista, o comunque il punto di vista della industria. Nel senso che è un'industria, secondo noi, molto efficiente, che è già stata regolata n volte. L'ultima regolamentazione che è stata passata nel mondo dei pagamenti è la PSD2, la PM Service Directive 2, nel 2017, che ha da un lato aperto il mondo dei pagamenti ai nuovi player digitali che possono entrare, quindi aumentando la concorrenza, e dall'altro invece ha imposto degli standard di sicurezza ancora maggiori per fare in modo che le transazioni siano sempre più sicure e a vantaggio di tutti. Tutte queste cose alla fine rappresentano un costo per l'industria dei pagamenti, e questo è uno dei costi che l'industria sta, come dico, pagando, diciamo. Dall'altro lato vediamo che, se guardiamo il cittadino, il cittadino non ha estracosti nel pagare con le carte. Quindi da un lato abbiamo il cittadino che paga, ha una convenienza a usarlo. Io faccio sempre l'esempio della metropolitana. Adesso voi siete a Roma, a Milano è uguale, la metropolitana si entra direttamente con la carta. Il ticket medio per la metropolitana è 1,50 euro, non è alto. L'azienda dei trasporti ha ovviamente una convenienza a fare quello che fa, e la convenienza è per l'azienda dei trasporti che abbassa il costo del contante, svuotare le macchinette dove si comprano i biglietti, i furti eventualmente degli addetti, o comunque furti nel trasporto della moneta, la carta, quindi c'è un tema anche ecologico se vogliamo, la carta che deve essere prodotta per il biglietto, poi deve essere smaltita, raccolta e quant'altro. E dal punto di vista del cittadino invece il cittadino evita di fare la coda, quindi è più veloce nell'ingresso alla metropolitana, non si ferma a fare la coda, le macchinette entra, fa il tappe ed esce. L'efficienza è anche, diciamo così, superiore perché senza dover pensare a quanti viaggi fa in metropolitana, alla fine della giornata è, diciamo così, il cervellone della metropolitana, dell'azienda dei trasporti che addebita la tariffa più conveniente. Questo è un esempio che spiega come i pagamenti digitali favoriscono l'innovazione e l'efficienza, e è un esempio che dimostra che i costi, che by the way, sono più bassi rispetto comunque in linea con la media europea, sono sostenibili anche con ticket più bassi. Quindi se lo può fare la metropolitana la stessa cosa può essere per un esercente. Pensate che noi come Mastercard lavoreremo per un anno e mezzo con la metropolitana per comunicare questa innovazione, per spiegare al cittadino che è molto meglio pagare digitale rispetto a pagare col contante. E secondo me questo è un po' il punto delle commissioni. C'è un tema di percezione, probabilmente, che è dovuto al fatto che magari noi operatori, insieme alle banche, forse non abbiamo spiegato bene quali sono i benefici del pagare digitale. Su questo la disponibilità di Mastercard è massima nell'aiutare tutti a comunicare questi nuovi casi d'uso e perché la moneta elettronica è meglio del contante. Il costo del contante, lo sapete, sono almeno 10 miliardi. Volevo dare altri due numeri sull'industria dei pagamenti. L'industria dei pagamenti è stata dimensionata da Ambrosetti, è stata dimensionata in un fatturato di 12 miliardi l'anno per 21.000 occupati e 1.600 aziende, tra cui appunto una è Mastica che da 28 anni lavora qui, lavora in Italia ed è un sistema, un po' per chiarire meglio il ruolo dell'isciore e dell'acquire, perché magari non sempre è chiaro, in un sistema a quattro parti come siamo noi, Mastercard, colleghi di Bancomat e anche di Visa, ci sono quattro attori nel sistema dei pagamenti, nei sistemi a quattro parti. Due sono bancari, uno è l'issuer ed è la banca che emette la carta di pagamento, dall'altra parte c'è l'acquire che è la banca che invece colloca i post nei negozi di fatto, ha il contratto con l'esercente per acquisire le transazioni. Le transazioni arrivano con le carte che arrivano verso i post, vengono avvicinate come metropolitana, la transazione attraverso i sistemi delle banche e dei circuiti arrivano dall'acquire che ha dato il post all'issuer che conosce il cliente, controlla se ha disponibilità di conto, in real time risponde, arriva dall'altra parte e appunto in pochi millisecondi la transazione funziona e questa cosa avviene uguale in tutto il mondo. Quindi diciamo il motivo per cui è un servizio e il servizio ha un costo è perché è un servizio altamente tecnologico, di grandissimo valore aggiunto e che permette appunto a tutti di avere dei benefici. Prego collega Unger. Grazie, forse non mi sono stato chiaro prima. Il signore aveva gentilmente dato una risposta, avevo capito a nome di Bancomat, abbiamo sentito Mastercard, piacerebbe sentire l'opinione di Amex e di Visa. In questo paese noi siamo convintissimi di quanto siano positivi i pagamenti tracciabili, elettronici, anzi, però abbiamo un problema molto serio. In questo paese non vengono usate le carte, si usa solo il contante. Come legislatori noi vorremmo cercare di rimediarci, voi ci stai dicendo che i costi che voi applicate sono in media con l'Unione Europea, se ho capito bene. Dalla sua risposta, lei mi dice, mi sembra di capire che forse è un tema più delle banche che collocano i post, la verità è che in questo paese quando si va in un taxi, quando si va in un esercente, da artigiani, molto spesso il pagamento con carta non è possibile, perché non funziona, perché il post non funziona, perché la commissione si dice troppo alto, troppo elevata. Io voglio soltanto chiedere a voi, che siete i maggiori attori del circuito dei pagamenti, cosa potremmo fare oltre alle misure contenute in questo decreto, che ovviamente prevedono un credito d'imposta e delle sanzioni, finalmente arriva una sanzione per non avere il post, per incentivare un maggiore uso e se può ripetere qui, in questa commissione, le vostre quattro istituti, che i costi che voi applicate per le transazioni, non sono superiore alla media europea, sarebbe bello dirlo in questo foro della democrazia italiana, così lo si dice agli italiani in maniera chiara e tonda, da tutti e quattro se possibile. Grazie. Allora, l'unico punto è, io penso che il pezzo che manca probabilmente è la comunicazione, lo dobbiamo spiegare agli esercenti e ai cittadini. Su questo siamo disponibili a lavorare, sul resto lascio ai colleghi rispondere. Prego. Enzo Queringhi, amministratore delegato di Visa, Italia. Vorrei riprendere quanto detto dai colleghi. Direi intanto, confermo quanto diceva Alessandro, dal punto di vista del meccanismo di funzionamento dei circuiti. Quindi la nostra sopravvivenza, le nostre revenues, vengono dai partner bancari, siano questi issuer o acquirer. Quindi noi non abbiamo un'incidenza diretta sul costo della transazione per quanto riguarda l'esercente o il cardholder. Detto questo, Visa, per darvi una misura globale, è lo schema più grande del mondo per quanto concerne la gestione di pagamenti elettronici, con circa 3 miliardi e mezzo di clienti serviti. Quindi abbiamo 200 paesi serviti. Grazie a questa economia di scala, che è considerevole, noi siamo in grado di affermare di essere nel paese, parecchio sotto la media europea, come costo di circuito. Quindi questo è senz'altro un fatto. Poi condivido il punto di alcuni colleghi che si parla spesso, questo diciamo come posizione di Visa, Visa intanto non ritiene come mission l'abbattimento a zero del contante come un valore. sicuramente non è il nostro obiettivo, ma il nostro obiettivo nel riguardo del progresso è quello di permettere ai cittadini di poter scegliere lo strumento con cui vogliono effettuare un pagamento. Quindi non si tratta di azzerare il contante, ma si tratta di offrire a tutti la possibilità di pagare come il cliente desidera, sia questa contante oppure digitale. Quindi rilevo anche la necessità di affrontare nel dettaglio i costi che l'esercente sostiene, perché si parla molto spesso del costo della transazione, mentre il costo della transazione a volte è molto più basso del costo complessivo che l'esercente deve sostenere. Perché, ne faccio un esempio, nel caso del costo del terminale di 100 euro al mese su un transato potenziale di 1000 euro dell'esercente incide al 10% di quanto lui transa con pagamenti digitali. Quindi è un ecosistema che va visto nella sua interezza e bisogna, a nostro avviso, dare agli esercenti la possibilità di accedere a questi servizi a dei costi ragionevoli. In questo benvengano anche le cosiddette fintech con cui Visa collabora in tutto il globo, che porteranno naturalmente un abbassamento del costo per l'esercizio. Ce ne sono già alcune operative in Italia in questo momento, ce ne sono a livello globale, e Visa mette a disposizione il suo network sul quale svolge investimenti continui sia per la prevenzione delle frodi sia per garantire all'intero pianeta un network globale stabile. Il network è a disposizione di tutte le piattaforme che ne fanno richiesta per poter veicolare transazioni in tutte le maniere. non c'è soltanto il POS come gestione terminale. Ci saranno presto disponibili funzionalità di pagamento digitale che non richiedono intermediazioni. Quindi potranno avvenire carta-carta, carta-conto, conto-conto, eccetera. Visa si propone come un player tecnologico che incentiva e favorisce questo tipo di transazione attraverso il pianeta anche per servire paesi come l'Africa che non sono terminalizzati. Grazie. Buonasera, Giovanni Speranza, Vice Presidente America Expressa. Innanzitutto, confermo anch'io per entrare nella discussione quello che dicevano i colleghi relativamente alla nostra visibilità l'Italia non ha assolutamente la media di costi più alti rispetto al resto d'Europa anzi da molti punti di vista più bassi rispetto alla media degli altri paesi europei. Due parole per precisare come Amex funziona in modo un po' diverso rispetto agli altri circuiti in quanto mentre gli altri colleghi fanno parte di un cosiddetto schema a quattro parti noi di fatto siamo uno schema a tre parti noi di fatto, mentre Visa e Mastercard hanno bisogno di una banca di appoggio per emettere carte noi di fatto siamo uno schema a tre parti in quanto noi siamo banca per i nostri titolari quindi controparte diretta sia verso i clienti titolari di carta che verso esercenti e abbiamo uno schema di commissionale verso i nostri esercenti che è completamente variabile assolutamente non c'è nessunissimo tipo di costo fisso e per dire quello che come operatori abbiamo fatto qui parlo al plurale perché secondo me è stato uno sforzo congiunto in tutti questi anni tutti gli operatori Amex compreso abbiamo fatto in questi anni sforzi di riduzione delle commissioni siamo andati già tutti più o meno verso uno schema di commissioni applicate in modo variabile quindi a crescere del transato noi in particolare come American Express dicono che negli ultimi 3-4 anni abbiamo fatto un investimento di circa 10 milioni negli ultimi 3 anni e mezzo di mancati ricavi proprio per ridurre significativamente soprattutto sulla porzione dei piccoli esercenti noi oggi abbiamo per le categorie come ad esempio lodging, bed and breakfast siamo fuori con una accettazione a zero discount rate su tantissimi piccoli e medi esercenti siamo fuori con un pricing che è al di sotto dell'1% 0,90 per cui voglio dire già stiamo andando in una netta direzione 0,90% significa su una transazione media di 60 euro significa 50 centesimi capiscono bene che il problema non è il tema delle commissioni se il tassista non accetta la carta di credito probabilmente i temi sono altri investiamo tantissimo in termini di anche per i titolari noi investiamo in programmi di loyalty su tantissimi prodotti restituiamo già oggi l'1% della spesa fatta con investimenti completamente nostri American Express al titolare che usa la carta anche queste sono forme importanti su cui gli operatori fanno investimenti propri senza averne alcun beneficio anche quello è un driver molto importante che va considerato e se posso dare un giudizio ne approfitto su quanto previsto innanzitutto accogliamo noi come American Express di buonissimo grado questa discussione perché già non c'era mai stata questa centralità nella discussione nel dibattito politico per cui già per questo ne siamo estremamente felici e auspichiamo che si vada verso misure più strategiche guardando anche ai grandi esempi dei paesi nord-europei che tutto hanno fatto sulla base della nostra visibilità eccetto che cercare di normare regolamentare la parte di commissioni e quindi accogliamo sicuramente di ottimo grado l'incentivazione per gli esercenti qua il credito di imposta che vi avviate a prevedere l'incentivazione verso i titolari ancora una volta i programmi di cashback e di loyalty sono qualcosa che funzionano che inducono a spendere i clienti ad utilizzare la carta anche presso i piccoli esercenti l'e-commerce cito solamente questo dato la percentuale di esercenti in Italia che ha fatto negli ultimi 12 mesi una vendita all'estero dei propri beni è stata dell'8% la media europea è tra il 23 e il 24% questa cosa si porta dietro una roba di 26 miliardi se noi ci adeguassimo facendo sistema mettendoli nelle condizioni di rivendere meglio il Made in Italy questo liberebbe qualcosa come 26-27 miliardi ci insegnare insomma un equivalente di 1,5% di punti di pilla per cui ecco il nostro invito è andare molto di più nella direzione di misure strategiche altro tema e finisco so che mi sto prendendo un po' più di tempo è il tema dell'onboarding un altro ostacolo oggi importante che abbiamo in Italia e che ci penalizza rispetto al resto d'Europa è la difficoltà di sottoscrivere uno strumento carta di credito in Italia fare una carta di credito online vi sfido a farlo ci vogliono veramente 20-25 minuti e UK è una cosa che si fa in 3 minuti e anche su questo dobbiamo probabilmente lavorare alla parte burocratica sottomissioni di documenti di identità di copie di codici fiscali che ormai tutti gli altri paesi usando la digitalizzazione usando l'identificazione SEDA e SEPA hanno da tempo superato bene io ringrazio molto l'audizione c'è qualcun altro ah ecco per Iorino prego grazie forse l'intervento può risultare un po' più interessante dopo aver ascoltato meglio gli auditi diciamo allora sembra un pochettino posso dire il passaggio della palla mi scusi magari molto sinteticamente molto sinteticamente sì sì grazie ho visto un pochettino forse il passaggio forse della palla per quanto riguarda la riduzione dei costi tra coloro che voi rappresentate e le banche quindi noi dovremmo parlare con le banche ma coloro che fanno diciamo accordi forse contratti con le banche comunque siete voi quindi quello che si vuol far capire è che aumentando l'utilizzo delle carte di credito effettivamente voi comunque siete diretti interessati in questo quindi magari accordi con le banche su maggiori transazioni eccetera eccetera queste forse dovreste prenderle anche voi non soltanto diciamo noi che facciamo parte dello scenario politico detto questo ho sentito che Visa stava un pochettino mettendosi tipo negli strumenti fintech questi nuovi e non avete un pochettino timore ecco diciamo che questi nuovi sistemi di pagamento possono creare una forte concorrenza verso coloro che voi rappresentate quindi non sarebbe male forse una riduzione per gli italiani del costo di queste che possono essere definite transazioni a noi interessano i costi effettivamente totali che può avere un commerciante per quanto riguarda la comunicazione che dice Mastercard effettivamente quello che noi cerchiamo di proporre è che c'è un vantaggio per tutti sia per gli esercenti sia per coloro che poi comprano magari utilizzano le carte di credito per fare degli acquisti e questo va a sistema sicuramente di sicurezza e anche nel loro interesse quindi questo qua lo stiamo forse già facendo per riguarda il finish riguardando l'e-commerce che è stato appena annunciato che giri di affari abbiamo per quanto riguarda l'e-commerce per quello che voi rappresentate in corrispettiva invece di sistemi tipo Paypal piuttosto che Amazon Pay o roba del genere ecco che sono molto concorrenziali forse nei vostri confronti grazie grazie c'è qualcun altro prego collega eh sì allora io volevo fare una domanda uno corrisponde al vero che c'era un gruppo di studio un tavolo di lavoro col sottosegretario Bitonci per diciamo calmierare le carte il costo delle carte di credito e quindi anche diffonderlo maggiormente è che a quel tavolo di lavoro è seguito un una proposta di intesa al sottosegretario che doveva essere sostanzialmente che prevedeva una volontaria diminuzione da parte vostra del costo delle carte di credito questa è la prima domanda la seconda domanda è il governo ha detto che vi chiedeva una diminuzione sensibile del costo dell'utilizzo tramite carte di credito volevo sapere se il governo ha preso contatto con voi e ha avviato questa diciamo attività grazie voglio rispondere chi risponde ancora ah prego scusi Gattaneo prego prima una considerazione che noi come parte politica abbiamo molto insistito per cambiare l'approccio cioè da quello di penalizzare chi non ha il post penalizzare chi non usa a premiante crediamo che i veri cambiamenti avvengano quando poi è competitivo è comodo è un vantaggio win win per tutti arrivare a certi tipi di strumenti e quindi in qualche modo speriamo che si vada avanti su questa strada e non si torni indietro e poi invece colgo l'occasione per avere qua tutti i autorevoli è un po' fuori tema però mi sembra che ogni tanto qua dobbiamo anche riflettere su scenari vari rispetto a quell'ipotesi di criptovaluta che su Facebook è venuta fuori Libra e che i grandi gruppi avevano già in qualche modo dato l'ok proprio sullo scenario poi alla fine si è bloccato voi cosa ne pensate perché un legislatore nazionale in qualche modo avere questi cambiamenti non li governa però spesso poi si trova a subirli senza avere alcun strumento Gerardi prego la mia è un'osservazione più che altro mi ricollego anche a quello che ha detto prima il collega Gusmeroli quindi di agire su una riformulazione quindi dei costi delle operazioni anche perché prendendo esempio dal dottor Speranza per l'American Express che di cui io insomma io l'ho avuta l'American Express quindi tutti i vantaggi che si possono avere avendo e utilizzando questo tipo di carta in tutto il mondo però quello che mi viene da pensare è un esempio blando dell'americano che viene in Italia magari va a visitare un piccolo paese magari entra nella bottega dell'artigiano e non può comunque utilizzarla perché magari o non ha il post quindi nel peggiore dei casi oppure magari ce l'ha ma comunque non può utilizzare quel tipo di carta per via poi delle commissioni e poi mi trovo d'accordo anche con quello che ha detto il dottor Guarenghi di Visa perché insomma credo che sia sì bisogna guardare con un occhio al futuro perché è fondamentale anche per migliorare gli strumenti e dare più possibilità d'accesso però è importante anche guardare l'ora e subito perché comunque bisogna dare a chi ne usufruisce comunque la possibilità di scegliere insomma il metodo di pagamento che renda migliore quindi cerchiamo di guardare non solo alle categorie insomma un po' più più avanti con i tempi ma guardare magari anche all'anziano che prende 450 euro di pensione e se deve comunque pagare e avere delle commissioni aggiuntive per quanto possono essere 2, 3, 4, 5 euro però teniamo anche in considerazione questo grazie finiamo un attimo dopo poi abbiamo finito una breve replica e poi chiudiamo prego grazie presidente allora chiedevo naturalmente ai signori invece cosa ne pensano invece di fare come il governo si pensa di fare c'è questa obbligatorietà nei confronti dei negozianti dei commercianti sull'uso della carta di credito altrimenti scattano multe o quant'altro e poi una paventata eventuale beneficio fiscale a favore dei cittadini che usano la carta di credito poi vediamo anche quanto sarà se sarà ancora più scusate i miei termini incasinata questo sconto fiscale o meno ma per usare la carta di credito visto che bene o male vediamo che siamo una popolazione che i pagamenti tracciati purtroppo per fortuna siamo un po' indietro rispetto alla media europea ci sono tantissimi che non ce l'hanno soprattutto gli anziani e tanti che magari non sono anziani ma non ce l'hanno mai avuto allora magari invece di una campagna intimidatoria da parte del governo con sanzioni e quant'altro non sarebbe più utile una forte campagna a livello nazionale di sensibilizzazione e istruzione sull'uso delle carte di credito in modo che nel medio periodo possiamo sicuramente aumentare a livello nazionale l'uso della carta di credito che è tracciabile molto utile e molto più sicuro dei contanti grazie posso anch'io presidente so che no giusto io aspetto la risposta alla domanda del collega Ungaro perché mi faccio anche qualche intervento che è stato fatto prima questa è la commissione finanze quindi il Parlamento quindi qua il governo non c'è e a delle interlocuzioni che sono state e non state fatte prima come è stato sottolineato insomma ci piacerebbe dare un contributo dal punto di vista parlamentare quindi al di là dell'iniziativa di un governo che c'era prima che poi mezzo è rappresentato ora insomma tutto il pasticcio agostano che abbiamo visto diciamo il vero significato delle domande ovvero cosa potremmo fare perché come diceva il collega ce la dobbiamo prendere con le manche chiediamo giusto per semplificare voi avete spiegato la differenza tra issuer e non ci ricordiamo l'altro termine però appunto data che c'è la differenza tra governo e Parlamento ripeto siamo qua come commissari a chiedere questo tipo di indicazione anche per diciamo andare incontro a quelle che sono oggettivamente anche delle lacune da un punto di vista storico culturali che al nostro paese hanno l'utilizzo della 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 moneta elettronica e anche però dal punto di vista dell'opportunità del piccolo negoziante di avere o meno convenienza di utilizzare o meno il circuito grazie bene abbiamo finito gli interventi se volete difficile sinceramente visto che nessuno di loro ha acceso mi ci provo io è difficile rispondere a tutti questi non sono neanche sicuro di ricordarli tutti però insomma noi apparteniamo gestiamo i pagamenti in Italia li gestiamo noi quattro sicuramente tutti quanti quelli elettronici però noi facciamo il nostro ruolo noi abbiamo avuto un ridimensionamento legato a quelli che sono stati gli interventi che prima li chiamavano i colleghi dal punto di vista regolamentare noi facciamo innovazione continuamente perché adesso il pagamento prima lo vedevate sulla plastica poi l'avete visto sul Ciless poi lo vedete dentro il telefonino il telefonino è uno ma gli sistemi sono N perché c'è Google Pay perché c'è Samsung Pay perché c'è Apple Pay dietro ognuna di queste modalità e ne ho citate soltanto tre c'è uno sforzo enorme da parte nostra e noi abbiamo le nostre commissioni che sono assolutamente in linea a quelle degli altri circuiti e poi sopra c'è la competizione questa competizione io sono certo di quello che sto dicendo è assolutamente uguale se non minore a quella degli altri paesi quindi qui il problema non è questo è un altro noi nel nostro piccolo per esempio sull'e-commerce mi ricordo la domanda sull'e-commerce abbiamo ridotto le nostre commissioni azzerandoli per certi per certi ticket minimi però ecco secondo me il punto è anche quello della informazione della scarsa informazione perché abbiamo sentito di commissione da parte del titolare che non esistono oggi tutti abbiamo un pago banquette in tasca e se questo pago banquette viene usato una volta all'anno o dieci volte al giorno il cliente non spende nulla questo credo che sia abbastanza diciamo non chiaro a tutti faccio un esempio banale che è quello del telepass voi vedete caselle autostradali molta gente che passa col telepass e paga quelli che noi chiamiamo i pagamenti invisibili non paga a noi paga ad altri soggetti poi vedete una serie di macchine che stanno al filo al contante tutti quei signori o quasi tutti hanno una carta pagobanco attivisa mastercard american express che infilandola dentro al terminale dove c'è scritto pagamento con carte pagano zero ecco voi dobbiamo domandarci perché e su questo siamo disponibili a fare ulteriore informazione perché tanta gente sta lì pur sapendo o non sapendo e a volte lo sa ma non vuole farlo per qualche motivo di sicurezza percepita noi siamo un circuito a frodi zero di inserire la carta lì dentro quindi secondo me il piano della discussione può essere questo per quello che è il nostro ruolo poi dietro di noi esiste una filiera che prima ho detto molto ampia molto varia col quale ci possiamo confrontare bene penso che abbiamo il collega io non ho avuto le due risposte ho fatto due domande intanto diciamo che tendenzialmente quando si fanno le audizioni noi ci segniamo la domanda magari è il caso di prendersi degli appunti però insomma è anche una questione di rispetto rispondere alle domande credo o no me le ricorda giusto rispondere allora sulle criptolute faccio parlare magari di circuiti internazionali che avevano partecipato sul fatto di avere avuto contatti noi abbiamo avuto un contatto come Bancomat all'epoca di luglio con il settore segretario Bitonci dopo il quale non abbiamo avuto più contatti se non oggi c'era un protocollo di intesa volontario per la riduzione delle commissioni che avevate preparato per l'onorevole Bitonci prima domanda secondo il governo vi ha contattato per ridurre le commissioni rispondo 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 io c'è stato un tavolo con l'onorevole Bitonci cui io personalmente non ho partecipato non mi risulta che sia stato preparato un protocollo di alcun tipo e abbiamo partecipato altresì a numerosi tavoli al ministero dell'economia e finanza sempre con in veste consultativa quindi noi non abbiamo né depositato né preparato né visionato protocolli di alcun tipo con l'onorevole Bitonci questo glielo confermo anche se io sono in visa da due mesi quindi però nel confronto con i colleghi che hanno partecipato non risulta agli altri rispondo anche alla domanda sulla criptovaluta se vuole anche sulle fintech al collega di prima le criptovalute sono senz'altro tecnologicamente un oggetto interessante ma Visa nel suo ruolo globale le affronterà e potrà farvi partnership solo quando esse saranno regolate e ben viste dai regolatori di tutto il mondo perché per la dimensione di Visa come dicevo prima Visa è partner dei regolatori globali cui diamo consulenza continuamente in tutti i paesi del mondo e è a fianco dell'agenda digitale di tutti i paesi quindi le criptovalute non si inseriscono in questo contesto perché non rispondono ai requisiti normativi di alcun tipo e quindi Visa vedendo il parere dei regolatori del mondo ha deciso di non continuare il percorso con le criptovalute finché queste non saranno regolate e quindi finché i regolatori non si esprimeranno positivamente diverso è invece il rapporto con le fintech che invece sottostanno operando nell'ambito dei pagamenti alla regolamentazione corrente di conseguenza rappresenta un'opportunità di scelta ulteriore per i cittadini e quindi sono ben viste da un circuito come Visa che ha come mission di dare più possibilità ai consumatori di utilizzo al minor costo possibile e ribadisco che il costo di Visa nel paese e in Europa è il più basso mediamente molto più basso della media ok chiudendo come Masterclass anche noi abbiamo partecipato al tavolo con Bitonci non c'è stato nessun protocollo di intesa non abbiamo depositato niente quindi confermo rispetto a Libra vale quello che ha detto il collega di Visa non essendo le criptovalute regolamentate finché non sono regolamentate siamo usciti dal consorzio e anche noi lavoriamo con le fintech ma tendenzialmente alle domande ho risposto io penso abbiamo finito se posso giusto in due secondi per integrare confermo anche io come American Express che non avevamo raggiunto un protocollo di intesa avevamo raccolto una disponibilità a parlarne ribadiamo però ora come abbiamo ribadito allora che ancora andare ad agire su temi commissionali è un'operazione distorsiva faccio un'ultima considerazione che si parlava prima di e-commerce paradossalmente il rischio che noi mettiamo in evidenza di andare a regolamentare poi soprattutto la parte di micropagamenti rischia di inibire quella parte anche di start-up fintech che stanno entrando ora nel mercato grazie all'open bank e la PSD2 che guarda caso inizia ad agire su quel segmento di transazioni per cui ecco perché regolamentare quella fascia di transazioni risulta estremamente il governo ad oggi non vi ha chiesto niente il governo ad oggi non vi ha chiesto niente per la riduzione delle sanzioni delle commissioni abbiamo adesso c'è un tavolo c'è un tavolo no io posso dire di no va bene bene allora ringraziamo i rappresentanti di Bancomat Mastercard Visa American Express e ci vediamo presto grazie a tutti 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 deputati la commissione è oggi convocata per proseguire il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del segno di legge 2220 di conversione del decreto legge 124 del 2019 recanti e esposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili saluto i rappresentanti di Confedilizia l'avvocato Giorgio Spaziani Testa e l'avvocato Giovanni Gagliani Caputo buonasera e do il benvenuto a nome di tutta la commissione cedo subito la parola chiedendo di contenere la relazione in una decina di minuti circa in modo da dare spazio poi ai colleghi per le domande prego grazie presidente saremo brevi più del solito perché la nostra intenzione era collere l'occasione di questa audizione per la quale ringraziamo ringraziamo dell'invito da parte della commissione per segnalare alcuni problemi generali riguardanti gli aspetti relativi a questa manovra nel suo complesso il decreto legge fiscale è parte della manovra e faremo solo due pochi accenni ai contenuti del decreto legge perché direttamente insomma sulla proprietà immobiliare sul settore immobiliare impattano diciamo in maniera relativa dal punto di vista generale mi permetto di portare all'attenzione di questa importante commissione è vero poi della legge bilancio si occuperà in seconda istanza la camera in particolare la commissione bilancio ma la commissione finanze darà il suo apporto concreto come sempre non solo in fase consultiva ma poi credo anche negli emendamenti al testo e si inizierà in senato come sappiamo ma qui si farà gran parte del lavoro mi risulta per quanto riguarda poi la parte sostanziale della manovra questo ripeto come sappiamo è un pezzo della manovra e io sfrutto tra virgolette questa occasione per dire la nostra sulla manovra nel suo complesso come abbiamo iniziato a vederla attraverso i testi che ci sono stati presentati quindi teceto legge e disegno di legge abbiamo come confederizia iniziato sulla difensiva combattendo molto per l'ottenimento di un risultato che poi è arrivato cioè il mancato aumento della cedola secca sugli affitti a canone calmierato abitativi a canone calmierato che nelle prime indiscrezioni non in testi concreti ma nelle prime indiscrezioni ma poi confermate dal governo era stata portata dal 12,5% rispetto al 10% e resa definitiva in quella misura il risultato finale è molto positivo per parte nostra perché giunge alla torna diciamo mantiene l'aliquota del 10% e la porta a diventare definitiva con sollievo non solo della proprietà immobiliare interessata ma anche degli stessi inquilini interessati tanto che i sindacati inquilini sin dal primo giorno hanno manifestato la nostra stessa contrarietà a quell'aumento quindi incassato questo importante risultato noi valutiamo invece altri aspetti della manovra nel suo complesso in maniera critica da un lato spero che ci sarà la possibilità anche con la commissione finanze della camera di intervenire sulla sulla fusione di mutasi che in questa commissione aveva era nata in un certo modo ma stava crescendo in un altro quindi non come mero accorpamento di due tributi che a nostro avviso ma non mi soffermerò più di tanto naturalmente non porta alcun immediato vantaggio anzi può portare e porta anche a qualche documento alla proprietà immobiliare ma insomma che in questa commissione si era si era poi sviluppata nel dibattito interessante con le audizioni che gli esponenti sia delle associazioni che delle della parte pubblica dipartimento delle finanze eccetera si era trasformata in un tentativo di migliorare la situazione quindi ridurre la tassazione soprattutto per alcune categorie di immobili particolarmente svantaggiati e risolvere alcune vere e proprie strutture a partire dalla tassazione per esempio degli immobili cosiddetti inagibili o inabitabili o comunque non utilizzati questa è la definizione di legge insomma io credo e si debba cogliere l'occasione di questa unificazione per fare qualcosa di più coraggioso che questa commissione aveva cominciato a fare non posso che lanciare lasciare solo questo flash sperando in futuri approfondimenti con la commissione finanze della camera così come decreto legge e disegno di legge non vedono una cosa che ci saremmo aspettati una cosa una misura che è iniziata lo scorso anno la cedolaria secca sugli affitti commerciali chiesta da Confedilizia ma anche dalle associazioni del commercio con i fersercenti e con il commercio in primis e che se non la troveremo né negli emendamenti al decreto legge fiscale né negli emendamenti alla legge di bilancio rappresenterà una cosa abbastanza unica nella storia italiana cioè una misura che nasce soprattutto per contratti che hanno durata di più anni nasce e muore in un anno quindi l'acetolare del 21% una tassazione ridotta per tentare di aggredire il fenomeno dello sfitto nel commercio non di risolverlo naturalmente riconosciuta come utile non solo credo di poter dire naturalmente da parte dei proponenti dello scorso anno c'è il Movimento 5 Stelle e la Lega ma anche del partito di altre componenti di questa stessa maggioranza il Partito Democratico e ora di Italia Viva oltre che di Forza Italia e di Fratelli d'Italia insomma ci stupisce molto che probabilmente per mere esigenze di non gravare ulteriormente sul gettito quindi per mere questioni finanziarie non venga confermata la misura che era appena iniziata e che non si vede come possa raggiungere dei risultati visto che i primi contratti si sono fatti forse a metà anno già non se ne fanno più per la paura di non arrivare in tempo per ottenere questo regime altrimenti si finisce negli scaglioni IRPEC che aggiunti a Imo e Tasi comportano una tassazione veramente eccessiva su questo settore a non incontrare domande offerte non vederla confermata almeno per un altro anno che era il minimo del minimo ci ha molto stupito su altri aspetti generali non mi soffermo ma spero che in sede insomma di legge di bilancio poi si possano fare altre osservazioni nel merito del decreto noi lasciamo così alla commissione due o tre considerazioni molto rapide una che riguarda la norma relativa al trust noi abbiamo al nostro interno un'associazione che si chiama Asso Trust che è insomma specializzata in questo mondo in evoluzione che è appunto quello della tutela del patrimonio attraverso il trust e i nostri esperti di questa associazione hanno valutato in maniera negativa una parte della norma contenuta nell'articolo 13 che potrebbe portare a qualche appesantimento e a qualche problema nel rapporto che si crea con i trust esteri che è quella relativa all'articolo 13 1 lettera B nel momento in cui impone diciamo impone una contabilità specifica a soggetti di natura di provenienza estera di soggetti non italiani nel momento in cui condiziona la contabilità di questi soggetti quindi al trattamento delle varie poste di bilancio da parte di questi soggetti condiziona il trattamento fiscale poi dei beneficiari del trust in Italia credo che anche qui l'esigenza sì è vero sia di chiarimento ci viene spiegato nella relazione ma in questo caso rischia di creare qualche problema al meccanismo di funzionamento dei trust vado sempre velocemente come è stato chiesto dalla Presidente forse ho già sforato ma due osservazioni su altre due norme quella degli acconti è una norma che riguarda i contribuenti in generale i proprietari di casa persone fisiche le società immobiliari i professionisti insomma il mondo dell'immobiliare viene diciamo colpito in più in più aspetti dalla norma che pone a regime un sistema sinceramente discutibile quello dell'acconto che non è più un acconto dell'acconto che diventa un versamento iniziale un versamento definitivo nella misura del 100% sia pure con quella suddivisione prevista da normativa credo che si possa dalla Commissione Finanze della Camera quindi da quella più deputata agli aspetti non solo di bilancio del nostro Stato ma anche del funzionamento e dei rapporti fra Stato e contribuente fra cittadino e Stato insomma valutare l'ipotesi che si possa concedere una maggiore liquidità ai contribuenti persone fisiche e società senza intaccare per questo il gettito delle varie imposte sui redditi insomma riducendo altro che aumentando noi diciamo riducendo in via generale l'entità degli acconti delle imposte sui redditi si è andati pian pianino verso una deriva che è quella ormai del 100% che non ci trova assolutamente d'accordo queste sono le osservazioni che volevamo fare sul provvedimento ripeto non non ci sono aspetti specifici per come è partito il decreto legge che ci riguardano più direttamente di quanto ho detto finora ci riguarda il fatto che in questo decreto legge e nel disegno di legge di bilancio appena entrato in senato non ci sono gli aspetti che credevamo essere necessari ai quali ho fatto riferimento prima e ci sono in forma non soddisfacente a nostro avviso quindi non ci sono e mi riferivo all'acedolare affitti commerciali confermata non ci sono nella forma che avremmo ritenuto utile al settore immobiliare e al paese per quanto riguarda l'ipotesi di unificazione di muettasi poi non mi soffermo su altro naturalmente perché questa non è la sede per fare poi proposte innovative ma diciamo il riferimento alla manovra e chiudo ho voluto farlo su alcuni capisaldi generali che riteniamo di particolare importanza grazie presidente grazie prego vi ringrazio nell'intervento allora volevo chiarire che ovviamente noi avevamo pronto l'abolizione della tasi con la diminuzione dell'imposta invece in manovra vediamo la possibilità per 7500 comuni di aumentarla l'imposta e quindi ovviamente la vediamo negativamente è vero che la manovra è al Senato e quindi lì l'immutasi però vabbè noi abbiamo anche colleghi al Senato che possono presentare emendamenti ma se poi tornerà qui non blindata eventualmente faremo il nostro lavoro per tornare all'ipotesi dell'abolizione della tasi fusione in mutasi con l'abolizione e riduzione dell'imposta volevo chiedervi secondo noi della Lega l'articolo 4 è molto penalizzante per il settore dell'edilizia non so se voi come confedilizia fate riferimento solo ai proprietari o anche al mondo più ampio dell'edilizia come costruzioni o come però l'articolo 4 per ciò che riguarda quel mondo ma anche il mondo degli appalti di servizi eccetera comporta un grosso problema di aumento della burocrazia della complicazione fiscale contabile e addirittura di impossibilità di adempiere al disposto dell'articolo 4 si citava in un'audizione precedente il fatto che se uno dà in subappalto deve pagargli le ritenute da conto al dipendente dell'appaltatore ed è un grosso problema uno perché quel dipendente bisogna pagargli le ritenute solo per il lavoro fatto e se in un mese fa più lavori bisogna addirittura fare dei conteggi con tutte le criticità del caso quindi si va a complicare un settore mettendo da un lato il reverse charge che è già di per sé una complicazione e il secondo aspetto questo del pagamento di ritenute altrui che è una roba che probabilmente è stata ripresa in qualche modo dallo split payment ma mentre sulle imposte indirette seppur una complicazione in qualche modo c'è una certezza che quell'iva comunque se si paga la si scarica qua invece c'è il rischio di contenziosi per le opere che vengono fatte nel frattempo si sono pagate le ritenute cioè è veramente una roba che non sta né in cielo né in terra ecco su questo volevo capire il vostro parere c'è qualcun altro prego collega cattano grazie intanto grazie per gli spunti che sono tutti molto interessanti e condivisibili sulla cedolare secca in particolare sottolineo quanto evidentemente un approccio di semplificazione di agevolazione fiscale abbia dato di buoni risultati volevo chiedere su questo solco rispetto al tema della locazione in Italia paragonato a quello che avviene in Europa dove l'utilizzo della locazione anche per un tema più culturale è più diffuso se però attraverso la leva fiscale noi potremmo riuscire a sbloccare dare maggiore anche ossigeno a a questo comparto che poi trainerebbe in maniera positiva e virtuosa anche un po' il tema dell'edilizia eccetera e poi un tema collaterale però voglio sapere la vostra opinione se collegate in qualche modo insomma al tema della fiscalità sugli immobili che opinione avete sulla revisione del catastro non ho altri interventi una replica prego grazie presidente per quanto riguarda ringrazio l'onorevole Gusmeroli e l'onorevole Cattaneo per le domande per gli spunti per i commenti per quanto riguarda la questione i mutasi ringrazio per la sottolineatura in effetti poi c'è il problema io sono andato molto velocemente c'è il problema tra gli altri dell'aumento dell'aliquota di base che in sé non è un aumento come sappiamo diretto ma indirettamente può diventarlo in tanti comuni quella dal 7,6 per mille all'8,6 per mille ma ci sono tanti altri aspetti che noi giudichiamo negativamente la perdita di qualsiasi riferimento ai servizi la perdita di quella piccola quota riservata agli occupanti degli immobili quindi per esempio gli inquilini che non è un modo solo di spostare tassazioni intanto è una tassazione in più per i proprietari che locano ma insomma era un principio di collegamento con un tributo sui servizi che andrebbe che era insufficiente ma che andrebbe a terminare del tutto e altri aspetti negativi prima o fa tutto il fatto che non si colga assolutamente l'occasione per iniziare a ridurre questo carico di tassazione che è il vero problema non quello di ridurre a due ridurre a una due sigle quindi questo è il nostro parere ma lo diremo insomma ancora più estesamente se saremo convocati dalle commissioni bilancio sul disegno di legge di bilancio perché è lì il testo sull'articolo 4 era il punto che ho dimenticato e quindi lo ammetto avrei fatto anche qui però un breve cenno ma volevo essere particolarmente breve per rispetto dei tempi noi siamo interessati da due punti di vista sia perché al nostro interno comunque ci sono anche nell'ambito degli iscritti alle nostre associazioni territoriali anche imprese che operano nel settore dell'edilizia ma siamo interessati anche dal punto di vista della proprietà immobiliare condominiale e nonna perché crediamo anche noi e comunque crediamo anche noi che quel sistema delineato dall'articolo 4 con riferimento ad appalti e subappalti nel nostro settore possa in effetti avere quei caratteri di maggiore complicazione ai quali accennava l'onorevole Gusmeroli abbiamo accolto favorevolmente qualche accenno dello stesso Presidente del Consiglio che ha parlato di ipotesi di cambiamento di quella normativa e diciamo confidiamo che questi accenni si traducano in realtà anche se credo sia molto difficile intervenire con aggiustamenti e lì ci vorrebbe forse un cambio un po' un cambio di direzione per quanto riguarda l'onorevole Cattaneo la locazione sì secondo noi è una leva di sviluppo cioè la leva fiscale nell'ambito della locazione può essere una leva di sviluppo dell'immobiliare non solo attraverso la diffusa locazione da parte delle famiglie che è quella tradizionale in Italia che ha garantito la locazione finora e quindi confermare la cittadale secca al 10% è stata importante così come sarebbe importante per il commerciale confermare ma estendere e ampliare quella sui locali commerciali perché è un problema proprio di di tenuta e di incontro ripeto di domande offerte con contratti di 6 anni più 6 quindi di 12 anni è una tassazione che frattutto supera ampiamente il 60% oltre le spese condominali di altro tipo di manutenzione è impensabile che con la con la tassazione IRPF attuale ripeto combinata con il resto questo sistema possa tenere perché si tratta di famiglie non sono grandi soggetti che hanno i locali commerciali se non li si aiuta si fa il gioco di poi di forme di commercio di altro tipo perché continueranno a morire sempre di più questi negozi questi locali commerciali confesercenti ci dice che siamo arrivati a 650.000 non è solo la fiscalità la causa ma se tra le cause le associazioni commercianti individuano la fiscalità vuol dire che era necessaria quella misura varata lo scorso anno e farla morire mi sembra assurdo non solo però e concludo serve anche fare no poi vado al catastro brevemente serve anche fare di più noi proponiamo da tempo per esempio che siano incentivate anche le società immobiliari che non hanno incentivi adesso anzi hanno disincentivi ad investire nell'abitativo modificando un trattamento fiscale penalizzante per gli immobili abitativi di queste società si può favorire l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti e lo spostamento dal non abitativo all'abitativo che insomma serve molto da parte dei soggetti che operano attualmente sulla riforma del catastro noi non siamo contrari alla riforma del catastro in sé e l'abbiamo dimostrato qualche anno fa quando abbiamo collaborato col Parlamento se mi si consente questa espressione nel momento in cui fu varata una riforma che poi non fu portata a conclusione perché così diciamo interagimmo per avere delle tutele poi ripeto non fu portata a conclusione anche perché probabilmente non aveva quei caratteri di tutela che che avrebbe dovuto avere siamo però contrari alla riforma del catastro chiesta dalla commissione europea perché la commissione europea ha mezzo per iscritto che la riforma del catastro che chiede ha la finalità espressa ci sono dei documenti che insomma i parlamentari presenti non hanno bisogno che io li indichi che dicono che ha la finalità di accrescere il gettito dell'imposizione sugli immobili perché scrive la commissione europea per diminuire ad esempio la tassazione sul lavoro è consigliabile e si raccomanda all'Italia di varare una riforma del catastro finché sono questi i presupposti noi siamo contrari alla riforma del catastro se poi serve creare diciamo maggiore equità nel sistema è tutto un altro discorso e comunque non necessariamente serve la grande riforma ma probabilmente ci sono già strumenti con i quali si possono varare questi miglioramenti ed altri se ne possono introdurre mi riferisco alle iniquità nell'ambito del sistema grazie non altri interventi salutiamo i rappresentanti di Confedilizia e ci vediamo presto grazie a tutti 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 anche questa audizione sarà trasmessa ove non vi siano ambizioni sulla web di la Camera dei Diputati sempre in relazione all'esame del disegno di legge 2220 abbiamo con noi i rappresentanti dell'associazione dei rappresentanti di Asso Petrole e Asso Energia il dottor Andrea Rossetti presidente e basta perché avevo una segnalazione non c'è poi un'altra persona ah ecco la dottoressa Gandolfo perfetto sì il segretario generale eccoci bene allora lascio subito la parola al dottor Rossetti pregando di continuare la relazione in circa 10 minuti perché poi abbiamo anche altre edizioni grazie grazie a lei presidente grazie a tutti voi per questa opportunità che ci viene concessa vorrei premettere brevemente qual è l'ambito della nostra rappresentanza noi rappresentiamo un sistema di imprese che si occupa sostanzialmente di due cose la distribuzione di carburanti e prodotti petroliferi tutto ciò che in Italia viene distribuito dalle aziende che non possono essere considerate le cosiddette major petrolifere quindi non rappresentiamo il mondo delle aziende integrate verticalmente nella filiera del petrolio ma rappresentiamo tutte le piccole e medie imprese che si occupano di questo comparto distributivo e quindi una realtà capillare distribuita su tutto il territorio nazionale che opera prevalentemente in questi due segmenti di mercato la vendita all'ingrosso quindi tutto ciò che viene distribuito a domicilio del consumatore negli ambiti che possono essere il mondo della logistica l'autotrasporto l'agricoltura la marina l'industria e anche pubblica amministrazione residenziale l'altro segmento distributivo è la vendita al dettaglio parliamo quindi della rete distributiva degli impianti stradali al nostro mondo associativo fa capo alle imprese che si riconoscono nella nostra organizzazione fa capo oltre il 50% della proprietà della rete distributiva stradale che tutti voi conoscete il terzo ambito della nostra rappresentanza è quello dell'efficienza energetica quindi il mondo delle esco delle aziende che si occupano dell'efficientamento energetico soprattutto nel comparto residenziale che è un nostro caratteristico mercato di sbocco storicamente e sul quale ci siamo specializzati poi in questo tipo di servizi noi entrando nel merito del provvedimento che al vostro esame abbiamo diciamo un'accoglienza più che positiva nei confronti del decreto fiscale per le misure antifrode che veicola nel settore dei carburanti misure che in gran parte sono anche scaturite dalla attività di confronto e stimolo esercitata dalla nostra organizzazione negli ultimi cinque anni e che ha già visto stratificarsi nella legislazione con legge di bilancio per l'anno 2017 e poi 2018 e nuovamente ora un set di strumenti che tendono a riportare sotto controllo una dinamica del settore che è stata pesantemente inquinata da un vero e proprio mercato parallelo dei carburanti che ha da un lato creato un grosso danno erariale e dall'altro creato un fenomeno massivo di concorrenza sleale per gli operatori che operano invece nell'ambito dei canali di approvvigionamento convenzionali nel merito vorrei concentrarmi e chiarito quindi diciamo l'accoglimento positivo vorrei concentrare l'attenzione su tre soli articoli dando quindi per sostenuto non solo condiviso il resto delle misure e l'impianto complessivo partirei dal punto dall'articolo 4 qui la questione vi è perfettamente nuota parliamo dell'onere a carico del committente del versamento delle reddute fiscali eccetera ora qual è il preciso angolo di lettura che noi diamo di questa misura ecco dal punto di vista delle imprese che si occupano di efficienza energetica noi temiamo che questo aggravio determini oltre che un indebito pregiudizio degli operatori anche un forte rallentamento dell'efficientamento energetico del comparto edilizio paralizzare o rendere più difficoltoso l'accesso al mercato determina un rallentamento degli interventi di efficientamento energetico soprattutto nel residenziale e da questo punto di vista ravvisiamo anche l'esigenza di guardare alla legislazione in ottica più allargata tenendo presente anche gli obiettivi molto ambiziosi che il sistema paese si è dato con la proposta di piano energia clima che abbiamo sottoposto alla commissione europea siamo in attesa delle controproposte e della definizione nel dialogo con l'esecutivo comunitario ma comunque gli obiettivi sull'efficienza energetica sono ambiziosissimi dovremmo riuscire a costruire un sistema che dal punto di vista legislativo e regolatorio consenta di decuplicare il numero degli attuali interventi che come sistema paese riusciamo a fare ora ingessare nei modi più diversi questo ambito di mercato a nostro avviso ha dei contro effetti indesiderabili anche in termini di perseguimento degli obiettivi del PNIAC dal punto di vista dell'aggravio delle imprese vorrei poi far presente che le imprese che si occupano di questo ambito oltretutto nell'arco del periodo di riferimento che può essere il mese operano su più commesse su più cantieri questo crea una situazione che rende estremamente difficoltoso adempiere a questa previsione e vorrei dal punto di vista finanziario far presente che molte di queste imprese operano in settore caratterizzato da particolari ritardi di pagamento che sono soggette già allo split payment per quanto riguarda la committenza pubblica e il reverse charge ne consegue ciò che voi immediatamente intuite un aggravio dell'indebitamento finanziario a carico di una precisa categoria di imprese da cui ci aspettiamo invece un forte impulso sul mercato per gli obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza energetica da questo punto di vista non possiamo che chiedere l'abrogazione della misura entriamo nello specifico della distribuzione dei prodotti petroliferi e dei carburanti articolo 5 abbiamo anche qui delle modifiche da chiedere in un comma dell'articolo 5 comma 1 lettera c si prevede che perfino i depositi ad uso privato quelli più piccoli siano assoggettati da adesso in poi al rilascio di una licenza fiscale rilasciata dall'amministrazione doganale e alla conseguente tenuta di un registro di carico scarico che è la modalità tipica di rendicontazione all'autorità e all'amministrazione l'esigenza l'obbligo viene fissato per i depositi superiori ai 10 metri cubi o ai 5 metri cubi se si tratta di impianti privati per l'autotrasporto l'esigenza che motiva questa misura è quella di censire i soggetti utilizzatori di prodotti che hanno una precisa connotazione fiscale quindi sono soggetti ad accise non possiamo rilevare a riguardo che pur essendo noi fautori di un solido sistema di controllo della filiera dei carburanti non possiamo notare che questi soggetti che si pretende oggi di censire e conoscere sono già soggetti conosciuti non sono degli sconosciuti perché se parliamo ad esempio di autotrasporto la movimentazione di questi prodotti è già oggi rendicontata con cadenza mensile nell'ambito del sistema di tracciamento doganale IMCS delle accise quindi tutti i destinatari di questi carburanti sono comunicati con la cadenza prevista dalla legge alla agenzia dogane monopoli che quindi le movimentazioni le conosce e le potrà conoscere in modo ancora più tempestivo anzi direi in tempo reale quando entrerà in vigore l'altra misura prevista nel decreto fiscale che è il DAS elettronico questo documento consentirà prima della spedizione della merce da un deposito emittente di conoscere all'agenzia delle dogane il destinatario quindi la singola operazione verrà tracciata in modo completo quindi questo già dovrebbe in qualche modo aiutarci a capire che sicuramente non parliamo di sconosciuti vorrei ricordare poi altro elemento di conoscibilità il rimborso per l'autotrasporto tutto il mondo della logistica del trasporto è già conosciuto dall'agenzia delle dogane monopoli perché nel momento in cui richiedono i rimborsi per una quota parte della CISA gravante su gasolio sui carburanti in genere ecco fanno una specifica istanza di rimborso all'agenzia dogane monopoli la quale analizzate le comprovanti e verificato il titolo emette il buono di accredito ancora gasolio agricolo altro mercato di sbocco le assegnazioni di gasolio agevolato nel mondo dell'agricoltura sono preautorizzate dagli enti preposti regioni e province con una assegnazione agevolata preventiva che viene poi consuntivata a fine anno anche qui è del tutto diciamo incomprensibile parlare di soggetti non noti ad adiuvandum questi stessi depositi se sono di capacità superiore di un metro cubo quindi perfino ai piccolissimi devono richiedere nuovamente all'amministrazione un certificato di prevenzione incendi oltre a questo devono anche chiedere un'autorizzazione all'autorità comunale e in ultimo ma non trascurabile sono resi conoscibili anche dal meccanismo di fatturazione elettronica che nel nostro settore vi ricordo è entrato in vigore in anticipo nel luglio 2018 per specifica sollecitazione mossa dalla nostra organizzazione dunque riteniamo che questa filiera sia già conoscibile e lo sarà a breve con l'implementazione del sistema del DAS elettronico il provvedimento appare quindi non proporzionato e vogliamo ricordare anche che tutto questo in questo contesto dovremmo anche porci come o non dimenticare del tutto l'obiettivo della semplificazione e voglio ricordare l'aspirazione dell'agenzia d'Italia digitale del famoso once only per cui l'amministrazione dovrebbe richiedere la ripetizione di adempimenti al mondo dei contribuenti e delle imprese vorremmo che insieme all'antifrode non ci dimenticassimo anche della necessità di tradurre in pratica questa aspirazione che non può restare filosofia ma dovrebbe diventare realtà qual è l'elemento che ci preoccupa c'è anche una componente di sviamento dei flussi della domanda stiamo parlando di adempimenti che gravano sul nostro mercato di sbocco ecco vi ho accennato che esistono due segmenti distributivi la rete e l'extra rete noi temiamo che le aziende che occupano nel canale dell'ingrosso che rifornisce oggi questo tipo di clientela venga sottratto di una clientela che si vedrà gravata di oneri su oneri e deciderà di andare a rifornirsi sulla rete distributiva stradale questi elementi a nostro abiso vanno stigmatizzati perché tenderemmo a sottolineare la necessità di una legislazione che pur perseguendo l'antifrode in modo efficace sia neutrale o tendenzialmente neutrale dal punto di vista concorrenziale non determini un orientamento della domanda indotto da elementi anche di carattere regolatorio da questo punto di vista quindi proponiamo tre ipotesi di intervento che espongo in ordine di gradimento subordinato la prima è l'abrogazione perché riteniamo la misura eccessiva gravosa e lesiva sul piano concorrenziale in via subordinata chiediamo che la concessione della licenza di esercizio sia sostituita dalla costituzione di una semplice anagrafe in cui le imprese possono si comunicare l'esistenza di un impianto di un deposito privato ma non essere costrette poi a ottenere addirittura una licenza che è un provvedimento amministrativo molto più strutturato e all'obbligo di ricondizione che è un gravame che riteniamo non proporzionato in via ulteriormente subordinata chiediamo che l'obbligo di licenza e di registro quindi di tenuta la contabilità sia riservato soltanto a quei depositi privati che quantomeno hanno il carattere della permanenza perché voi dovete immaginare che una parte di questo mondo utilizza i piccoli impianti di deposito di stoccaggio anche per necessità che sono provvisorie transitorie non durature e quindi almeno chiederemo di profilare il provvedimento sulla parte di questi depositi che hanno il carattere di permanenza come facciamo a distinguerli avere un impianto avere un deposito con i serbatoi interrati con una struttura fissa di erogazione è certamente un discrimine perché in quel caso abbiamo degli impianti che sono destinati a rimanere nel tempo e non sono magari a servizio di necessità provvisori come può essere ad esempio l'alimentazione dei mezzi che lavorano in un cantiere perché noi addirittura andremo a incidere su elementi della logistica così labili così temporani ecco questo va evitato perché è un aggravio che riteniamo del tutto sproporzionato passerei velocemente all'articolo 5 chiedo scusa permettetemi scusate all'articolo 6 andiamo già direttamente all'articolo 6 per la parte che si riferisce alla disciplina sull'IVA ora la legge l'ho ricordato prima la normativa pregressa sull'antifrode IVA nei carburanti la legge 205 la legge per il bilancio per il 2018 ha istituito un regime del tutto speciale per i carburanti che faceva coincidere l'immissione in consumo di questi prodotti non solo con il pagamento dell'accisa ma anche dell'IVA operazione per operazione senza possibilità di compensazione un regime speciale pensato per chiudere il mercato e proteggerlo dalle frodi carosello che lo hanno tempestato e in parte continuano ancora a vessarlo quel sistema era caratterizzato da alcune deroghe che in parte hanno consentito il perpetuarsi di questo ordine di problemi la deroga più frequente e più utilizzata e la più rilevante era quella che concedeva a chi immettesse i carburanti in consumo per conto proprio non per conto di terzi depositanti ecco questa categoria di operatori erano esentati e potevano continuare a versare l'IVA in compensazione periodica ora rispetto a questa categoria viene fatto un nuovo innesto normativo con un giro di vite che crea però dei problemi per come è stato formulato che cosa si determina vengono obbligati al versamento anticipato dell'IVA senza compensazione ripeto per operazione o per operazione solo i depositi piccoli individuando una soglia peraltro non già presente nell'ordinamento 3.000 metri cubi un discrimine dimensionale che viene identificato tal quale senza alcun elemento interpretativo accessorio come il discrimine tra la zona di rischio e la zona di compliance certa questa è una misura assolutamente discrezionale e vorrei dire arbitraria chi ricade in questo perimetro al di sotto dei 3.000 metri cubi di nuovo le piccole e medie imprese che vengono assimilate ad una zona di rischio in modo diciamo aprioristico ora noi che cosa lamentiamo a riguardo c'è un tema di palese spereguazione concorrenziale pensate a cosa vuol dire dal punto di vista finanziario innanzitutto anticipare l'IVA su tutte le operazioni e competere con operatori un poco più grandi che invece continuano a liquidare l'IVA periodicamente potendola anche compensare come previsto questo crea di nuovo un indebitamento finanziario esponenziale a carico di una precisa categoria di operatori sulla base di una semplificazione che è intollerabile vorrei poi aggiungere che a questo si combina anche una notevolissima difficoltà operativa voi pensate che pagare l'IVA con F24 operazione per operazione vorrebbe dire che invece di fare il proprio lavoro uno lavora in parallelo con le banche per poter gestire un adempimento di questo tipo il parametro dei 3.000 metri cubi è del tutto fuori sistema è una semplificazione ripeto che viene introdotta con questo provvedimento e ci pare che andrebbe quantomeno accompagnata da provvedimenti di mitigazione allora da questo punto di vista riteniamo che sia possibile ragionare non sulla abrogazione perché noi condividiamo la razio ma su delle precisazioni che profilino in modo più accurato il provvedimento la prima è limitare questo adempimento ad una precisa categoria di depositi che immettono in consumo che sono i cosiddetti destinatari registrati si tratta di un istituto identificato oggettivamente e soggettivamente dal testo unico delle accise sono diversi dai depositi fiscali perché non sono abilitati a detenere prodotto in sospensione d'accisa ma semplicemente a riceverlo e a nazionalizzarlo immediatamente dopo sono soggetti ad un set di controlli dal punto di vista doganale certamente meno consistente rispetto ai depositi fiscali che hanno un regime di vigilanza molto marcato anche in ragione delle misure che sono state sedimentate nell'ordinamento in questi ultimi anni questa quindi è la nostra prima richiesta di intervento in via subordinata o mai non fosse possibile riprofilarla in questo modo chiediamo che quantomeno a questi operatori piccoli sotto i 3.000 metri cubi siano concesse due possibilità di adempimento alternativo una è prestare garanzie per equivalente in modo quantomeno da non inchiodarne l'operatività in via collegata che siano riconosciute gli esoneri già previsti dall'ordinamento ai fini accise dal testo unico delle accise a favore di quegli operatori considerati dall'amministrazione doganale affidabili sulla base di precisi criteri già identificati una cosa importante però mi perdoni c'è una questione che riguarda l'utilizzo delle lettere di intento anche qui siamo nell'ambito dell'articolo 6 voglio su questo mettere l'accento finale e richiamare la vostra attenzione quasi facendo un appello il tema delle frodi IVA delle frodi Carosello come vi ho detto è al centro di anni di confronto istituzionale e di normazione abbiamo visto che il decreto fiscale prevede nuovamente una deroga rispetto al divieto di utilizzo di questo strumento nel settore dei carburanti noi richiediamo che sia una deroga pericolosa perché dal punto di vista teorico ha un razionale ma si cala in un contesto in cui noi sappiamo noi quanto l'amministrazione sappiamo perfettamente che sulle lettere d'intento c'è ancora un ritardo di controllo l'amministrazione non è in grado di controllare questo strumento ex ante non può accendere ex ante un semaforo verde per verificare dove è legittimo l'utilizzo e dove invece è fraudulento ed accendere un semaforo rosso noi temiamo che da questo varco che ha ripeto razionalmente una sua legittimità si crei nuovamente una falla e noi vi ripeto sono cinque anni che stiamo correndo dietro a questo fenomeno che ha denotato una capacità di rigenerarsi modificando le tecniche fraudolente che deve metterci sull'avviso questo rischio non ce lo possiamo concedere con noi lo riferisco sulla base del confronto istituzionale alla luce del sole che svolgiamo anche con l'amministrazione agenzia delle entrate agenzia delle dogane è d'accordo anche l'area antifrode dell'agenzia delle dogane e dell'agenzia delle entrate vi esorto su questo a porre la massima attenzione perché rischiamo di fare la tela di Penelope costruiamo di giorno e poi qualcuno disfa di notte vi ringrazio molto per l'attenzione quindi sulle lettere di intento noi chiediamo la inibizione integrale senza deroghe e senza se e senza ma come va di moda dire oggi rimango a disposizione per tutte le vostre domande di chiarimento e integrazioni molte grazie grazie a lei prego sì grazie presidente beh intanto registriamo positivamente insomma il lavoro e ringraziamo per quello che ci avete fornito come partito democratico abbiamo richiamato l'attenzione del governo su questo fenomeno che come è apparso anche sulla stampa anche servizi in televisione questo insomma effettivamente in questo filone si sono inseriti poi tutta una serie di soggetti insomma abbiamo letto di quello che sta accadendo in diverse regioni d'Italia quindi la stretta è necessaria andremo a rileggere a verificare questi aspetti che voi suggerite e per essere breve anche perché ci sono i colleghi che vogliono intervenire ritengo anch'io che su questa questione della deroga rispetto alla lettera di intento anche perché sappiamo che soggetti che presentavano lettere di intento poi in realtà andavano a vendere sotto costo questo carburante questo è quello che è successo in tante operazioni di conseguenza c'è un'evasione di IVA che è di accise enorme in questo settore quindi credo che insomma l'audizione di quest'oggi da parte della vostra associazione è un'audizione importante che ci aiuterà anche a migliorare questa norma però vogliamo centrare questo obiettivo perché c'è un'evasione scandalosa in questo perché ripeto ci sono inseriti dei soggetti che come sappiamo fanno riferimento a queste associazioni criminali sulle quali dobbiamo intervenire grazie grazie a lei prego quello che ha fatto il nostro sì grazie presidente allora io ringrazio per l'esposizione condivido il fatto che nello specifico il settore nello specifico il settore aveva bisogno di una di un intervento governativo perché comunque parlando anche con molte aziende appunto del settore petrolifero c'è una grossa una grossa problematica per quanto riguarda l'evasione della CISI e di IVA e quant'altro però secondo secondo noi come Lega io penso che questo provvedimento da parte del governo miri più a sparare nel mucchio che a trovare la singola la singola soluzione per un problema che comunque c'è condivido e condividiamo la problematica che troppe scartoffie vengono richieste a aziende parlo del settore della logistica del settore dell'autotrasporto ma anche del settore agricolo tutte le documentazioni che comunque sono già in mano come si diceva all'amministrazione finanziaria per quanto riguarda per esempio il rimborso della CISI ma per quanto riguarda anche l'aspetto del gasolio agricolo e troviamo chiaramente condividiamo anche la problematica della capacità non inferiore a 3.000 3.000 metri cubi che si diceva poc'anzi che è discriminante chiaramente per le aziende chiamiamole così medio piccole io presumo che questo aspetto quindi un limitamento finanziario quindi maggiori costi a carico di queste aziende distributrici medio piccole poi si tradurranno anche in un ribaltamento seppur parziale dei costi nei confronti dei clienti che sono appunto clienti di queste aziende medio piccole quindi sarebbe opportuno un cambio di direzione come un cambio di direzione anche per quanto riguarda l'uso delle dichiarazioni d'intento che probabilmente è proprio il cuore del sistema quindi bene l'intervento del governo in questo settore noi l'avevamo chiaramente spiegato malissimo come si diceva prima l'azione di sparare nel mucchio e quindi di non centrare le vere problematiche di un settore in difficoltà e bisognoso di interventi però mirati grazie prego Presidente ringrazio per la relazione soprattutto per le controproposte molto chiare lei si renderà conto che c'è un problema di evasione di 1,6 miliardi si calcola almeno dal MEF di accise evade sulla benzina lei si renderà conto che è nell'interesse dei suoi soci che questa evasione venga recuperata perché poi chi evade compete in maniera sleale contro i soci contro gli iscritti e la sua associazione che la rappresenta questo paese c'è chi promette di togliere la CISA e non succede c'è chi promette chi forse la vuole alzare noi invece vorremmo appunto ridurre l'evasione quindi la ringrazio per le proposte molto puntuali che lei ha fornito come associazione e se posso lo so che abbiamo un po' contato Presidente ma lei sull'articolo 6 ha proposto di limitare l'articolo e destinatare registrati invece dei depositi fiscali altrimenti se può ribadire la seconda proposta ovviamente ho la memoria ma se può esporla qui ai commissari in una frase appunto come venire in conto le operatori sotto i 3.000 metri cubi se puoi molto brevemente difendere la proposta grazie cercherò di essere brevissimo rispondendo cumulativamente alle sollecitazioni che ci avete offerto di cui vi ringrazio la necessità di intervenire è in dubbia voglio dirle ad adiuvandum rispetto alle considerazioni che lei faceva è che è anche grazie alla nostra organizzazione che abbiamo alzato il livello di attenzione del mondo istituzionale ricordavo prima le due leggi di bilancio che non a caso sono arrivate a occuparsi di questo problema il contributo della nostra associazione risulta anche agli atti parlamentari con i documenti preparatori delle leggi di bilancio che ho citato quindi certamente questa è la finalità comune e noi abbiamo aggiunto al confronto istituzionale e politico su questi temi anche un rapporto stabile con la direzione nazionale antimafia antiterrorismo che non a caso segue dal 2017 questi lavori perché noi in virtù del posizionamento che abbiamo sul mercato ci siamo perfettamente resi conto di quale fosse la matrice di questa dimensione industriale dell'efrodiva sulla questione quindi della coincidenza di interessi ci siamo definitivamente chiariti mi auguro ciò non toglie tuttavia che le misure vadano profilate in modo accorto bisogna perseguire l'obiettivo dell'efficacia bisogna allo stesso modo non vessare le piccole e medie imprese soprattutto e gli operatori che non avendo acquistato sul mercato parallelo sono già stressate da una meriede di adempimenti e dal problema della concorrenza sleale caricarle di adempimenti non proporzionati in questo momento vuol dire definitivamente metterle fuori mercato arrivo quindi alla necessità di trovare questa linea di intervento equilibrato e rispetto al punto di cui lei mi chiedeva il chiarimento come sostituire il versamento dell'IVA anticipato allora l'ambito destinati a riregistrati questo è chiaro parliamo quindi di strutture particolarmente piccole e che operano sottoposta ad un regime di controlli attenuato rispetto ai depositi fiscali e quindi la tutela erariale può legittimamente ipotizzarsi di rafforzarla in questo caso in via subordinata se vogliamo tenere dentro nonostante le specificazioni e le raccomandazioni che ho fatto i depositi fiscali piccoli quantomeno riconosciamogli che laddove si integrino i requisiti di affidabilità definiti già dal testo unico delle accise quindi validi per le accise che consentono di avere degli esoneri totali o parziali su un ambito accise ecco gli stessi requisiti di affidabilità possono essere mutuati in un ambito diverso sull'imposta che è l'IVA altrettanto chiediamo che se un operatore piccolo che viene costretto a pagare l'IVA è disponibile a prestare una garanzia per l'equivalente delle operazioni ecco che quantomeno sia consentito prestare una garanzia come adempimento sostitutivo perché in quel caso permane un aspetto di carico di sovraccarico finanziario ma quantomeno li priviamo dell'ingiustificato aggravio operativo quindi queste sono delle subordinate che mi sento di raccomandare nell'ottica di andare a discernere in modo responsabile qual è l'ambito su cui costruire dei muri di tutela erariale e dove invece non entrare per non distorcere il mercato e vessare gli operatori soprattutto le PMI grazie io non ho altri interventi saluto rappresentanti della Sedefroni e ci vediamo grazie Presidente grazie a tutti voi per l'attenzione se magari le vostre proposte potete anche farle per venire formalmente alla Commissione sì credo che il nostro documento sia già stato inviato ci assicureremo che lo abbiate ricevuto e comunque siamo a disposizione per reiterare l'inoltro e continuare il dialogo istituzionale che abbiamo oggi ancora nuovamente rafforzato grazie a tutti buon lavoro grazie a tutti 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 dottor Geronimo Cardia, pregandolo di contenere la relazione in circa dieci minuti, in modo che possiamo poi dare spazio al dibattito successivo. Grazie. Grazie Presidente, onorevole deputati, buonasera. La nostra associazione a Cadi, come ha anticipato la Presidente, è l'associazione dei concessionari dei giochi pubblici. In termini di rappresentanza i nostri associati con le loro filiere contribuiscono nella misura di 7 miliardi sui dieci che circa ogni anno rappresentano il gettito erariale riveniente dall'intero comparto dei giochi. Il sistema concessorio, oltre ad assicurare questo importante livello di contribuzione, garantisce che sia implementato sul territorio ogni tipo di normativa prevista dallo Stato, ogni tipo di politica economica decisa dai vari governi. Preparandoci in questi giorni su cosa venire a dirle, a dire a voi onorevoli deputati, ci siamo interrogati e devo dire una battuta che è uscita tra di noi, è stata quella più simpatica di un associato, ha detto il nostro rapporto con lo Stato è un rapporto catulliano, odi e tamo. Qualcun altro ha detto, no, guarda ti sbagli, il rapporto che abbiamo con lo Stato sta diventando odi e todi, ma mi servi? Lo spiego meglio. Ha capito già, mi dice il Presidente. Ma mi servi? Noi siamo venuti in sedi istituzionali simili a queste, in altre commissioni, in questi ultimi 12 mesi già diverse volte. Perché la copertura delle manovre economiche dell'attuale governo, come quello precedente, è stata trovata con aumenti di tassazione riservati al comparto. Abbiamo fatto un calcolo l'altra volta che solo il reddito di cittadinanza e quota 100 sono stati finanziati con aumenti di tassazione pesati circa un miliardo e mezzo di euro. Il dettaglio di questo numero ci consente di dire che non è un normale aumento di tariffa come normalmente vediamo applicato per esempio alle sigarette che impatta direttamente sul consumatore. Ma è un numero che va a rosicchiare il margine a disposizione del sistema concessori e dell'intera filiera per poter finanziare tutti gli investimenti imposti dalla normativa per pagare le migliaia di lavoratori. Questo concetto noi abbiamo cercato di esprimerlo in occasione dell'ultimo dei tre aumenti di tassazione che ci sono stati in questi 12 mesi e ci ritroviamo oggi a doverlo riproporre. Questa volta con forza e devo dire non è un segreto che quando abbiamo letto il testo che è stato reso disponibile non abbiamo perso tempo, abbiamo preso carta e penna e per la prima volta nella storia della nostra associazione abbiamo scritto direttamente al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Finanze e al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che è il nostro ente regolatore. Spiegando che la misura è veramente colma e che purtroppo come associazione non possiamo escludere che associati, le imprese del comparto e le imprese del settore possano avviare a vino misure di mobilità, perché i margini si sono ridotti in maniera veramente eccessiva rispetto ai business plan che sono stati fatti a inizio della convenzione di concessione. Dico due cose, la prima cosa che voglio dire è che voi potete apprezzare nella documentazione che vi abbiamo fatto avere, che la pressione fiscale di una delle verticali dei giochi è passata dal 13% al 25%, di un'altra verticale dei giochi dal 2%, attenzione al 9%. Stiamo parlando di una tassazione quintuplicata rispetto a cosa? Rispetto all'inizio della convenzione di concessione, rispetto al momento in cui i soggetti vengono selezionati con gara, contrattualizzati e nel momento in cui i soggetti, i concessionari realizzano tutti gli investimenti in tecnologia pretesi per contrastare il disturbo da gioco d'azzardo, pretesi per assicurare una rete che funzioni perfettamente. Perché questo riferimento alle convenzioni di concessioni sottoscritte? Perché è evidente che l'altra grande cosa che abbiamo messo nero su bianco all'attenzione del Presidente del Consiglio, all'attenzione del Ministro delle Finanze e all'attenzione del Direttore dell'Agenzia delle dogane dei monopoli che non sono escluse azioni a tutela dei propri interessi. Per lo squilibrio concessorio generato da questi, uso solo un termine un po' forte rispetto allo stile che abbiamo normalmente, indecenti, visto e considerato che a ogni appuntamento, a ogni manovra economica, ad ogni politica economica si trova sempre traccia a ricorso alla copertura con aumenti di tassazione e in particolar modo due tipologie di imposte, di gioco, che sono le AWP e le OLT. Ma non è tutto, perché se andiamo a vedere il documento che oggi abbiamo in commento, voi troverete tanti altri piccoli aumenti di tassazione. Faccio un esempio, avevamo già un RIES che era l'elenco dei soggetti, ipercontrollati, il RIES viene sostituito con un elenco dei soggetti al nome diverso. Quello che cambia è il contributo annuale che ognuno dei soggetti del gioco deve versare per avere titolo ed essere iscritto, quindi una finalità di copertura e basta. L'altra misura che vi voglio portare all'attenzione e che mette in evidenza un problema sistemico rilevantissimo è l'aumento del costo della proroga delle scommesse, che non sembra un animale strano, invece è una cosa molto semplice. Le convenzioni di concessione delle scommesse e del bingo sono anni che sono in proroga. La proroga è una parola bruttissima nell'amministrazione. Chi controlla i conti delle amministrazioni e vede che i contratti sono in proroga, storce il naso. Credo che questo sia l'unico caso in cui le proroghe non vanno bene ai soggetti che si vedono prorogati i contratti, che sono gli operatori. E dico perché. Perché lo Stato si è reso conto che non può bandire, mettere a bando le gare scommesse, le gare del bingo. Perché lo Stato sa perfettamente che i territori delle regioni, per le norme regionali, caratterizzate da una normativa frastagliata e diversificata, impongono dei distanziometri che all'atto pratico, studiati, applicati e valutati, rendono proibiti i territori nel loro 98%. Cioè la sostanziale totalità dei territori è inibita all'installazione del gioco. Quindi tu hai l'offerta pubblica di gioco con le scommesse, l'offerta pubblica di gioco del bingo che non può essere riportata a bando perché nel momento in cui il soggetto acquisisce il diritto di aprire un punto sul territorio, un'altra istituzione, la cui potenza legislativa è di vari rango a quella nazionale, gli spiega che non può mettere a terra il punto su cui ha pagato i diritti iniziali per aprire. E questo che stupisce alcuni, tutte le persone con cui parliamo normalmente, devo dire non è uno scoop, lo trovate scritto in tutte le salse, in tutti i documenti dell'amministrazione, in libri, io ve ne ho portato qualcuno, potete usarlo come fermaporta quando tira il vento, lo sanno tutti. E colgo l'occasione per dire questo, che se c'è il paradosso in questo decreto, dopo che abbiamo scritto la lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Finanze e al Direttore dei Monopoli, abbiamo potuto assistere nella lettura delle prime bozze che stanno circolando della manovra 2020, il grande colpo di scena, che anziché avere una rinuncia a tassare ulteriormente il comparto, abbiamo trovato un'ulteriore tassazione, la tassazione sulle vincite dei giochi, in particolare sulle videolotterie, e abbiamo trovato un'altra grande sorpresa, cioè quello che è pianificata la gara sugli apparecchi, quindi delle avopie e delle videolotterie, per la fine dell'anno. Peccato che per mettere a terra gli apparecchi, per mettere a terra le avopie e le videolotterie, sussiste lo stesso identico problema che abbiamo noiosamente per voi, mi dispiace, descritto per le scommesse e per il bingo. Quindi com'è possibile mettere a budget un miliardo e otto per una scommessa che non è possibile fare. Questi sono i temi legati fondamentalmente alle idee di copertura delle manovre di politica economica che i governi vogliono implementare. Faccio una battuta, c'è un altro aspetto che incuriosisce moltissimo. In questi documenti si ritrova, perché non poteva mancare, ci saremmo dispiaciuti e sentiti male, un impegno, anzi un obbligo del legislatore a realizzare la famosa legge di riordino del comparto del gioco, che tra le cose che deve fare la prima è togliere i distanziometri esplosivi e le limitazioni orarie che rendono impossibile la distribuzione del gioco sul territorio, ma sappiate che credo che sia la quindicesima norma, identica, spiccicata, abbiamo fatto una raccolta, vi abbiamo messo l'elenco nel nostro documento, in cui il legislatore dice va bene, fra sei mesi facciamo la legge di riordino, sistemiamo tutto, così potete andare avanti. Noi pensate con quale spirito abbiamo letto questo ventesimo impegno. Grazie. Grazie. Sì, buonasera, sicuramente qualche punto sarà già ripetitivo di quello che ha detto il collega, comunque vorrei dirvi innanzitutto per ringraziare per quello che ci avete udito oggi come oggi. Quindi sono domenico distante, voglio innanzitutto ringraziarvi per aver accolto la nostra richiesta di audizione, inoltrata con questa commissione dell'Associazione Nazionale Saffar, di cui ho l'onere e l'onore di essere Presidente, associazione che fin da lontano 1962 riunisce le piccole e medie imprese di gestione operanti nel settore della raccolta di gioco pubblico con o senza vincere in denaro. Vorrei chiarire a tutti voi la figura del gestore dell'apparicchio di intrattenimento, in quanto sembra che ad oggi ad alcuni sia sconosciuta, motivo per il quale in questa sede, come Presidente Nazionale Saffar, voglio illustrarvi chi siamo e che mansioni svoltiamo noi gestori del gioco di Stato, in quanto tra i diversi compiti, oltre che ad occuparci dell'acquisto e dell'assistenza degli apparecchi, nel trattenimento raccogliamo presso tutti i pubblici esercizi l'importo residuo, corrispondiamo all'agile esercente, versiamo al concessionario il preo, più lo 08 spettante all'Agenzia delle dogane dei monopoli, ed il costo di rete trattenendo la nostra parte. E' per me doveroso portare in questo rilevantissimo contesto il grido di allarme e di disperazione delle imprese rappresentate dalla Saffar. Il momento che stiamo vivendo è infatti drammatico ed abbiamo il dovere di portare a conoscenza di chi ha la responsabilità delle scelte che incidono sul loro futuro la realtà delle imprese rappresentate e le inevitabili conseguenti di queste scelte. Ci troviamo infatti a discutere l'annesima norma che aggredisce brutalmente le aziende del settore fino ad aggiungere a mettere seriamente a rischio non solo la permanenza sul mercato delle stesse e con esse i loro lavoratori, ma la stessa tenuta dell'intero sistema. Deve essere detto a chiare lettere che un incremento del parere valoriale unico sugli apparecchi si traduce in una riduzione esponenziale dei margini di ricavo lordo ricadente esclusamente sulle imprese di gestione e sugli associanti. I gestori inoltre sono proprietari degli apparecchi 2,6 lettera del TUSP e devono infatti riacquistare ed adeguare gli stessi ad ogni campo di payout e quindi avuto riguardo ai più recenti provvedimenti normativi le imprese di gestione hanno dovuto sostituire tutti i loro beni strumentali per ben due volte in quattro anni senza ovviamente arrivare mai ad ammortizzare gli enormi investimenti sostenuti. Le 5.000 piccole e medie imprese di gestione che connessano circa 150.000 lavoratori con l'ulteriore previsto incremento del parere valoriale saranno in larga parte costrette a cessare la propria attività anche a ragione di quella che è stata soprattutto negli ultimi anni un feroce accanimento solo nei confronti degli apparecchi di intrattenimento. basti notare che dall'anno 2015 ad oggi ci sono stati ben sette aumenti del preo di cui solo quattro negli ultimi 12 mesi. Come già detto, tali aumenti si riversano esclusivamente sui soggetti più deboli in terra filiera, ovvero gestori e esercenti. A rendere impossibile la continuazione dell'attività si aggiungono le norme regionale e comunale emanate, quasi sempre in contrasto con quanto si è incito dall'accordo siglato in conferenza Stato-Regione in data 7 settembre 2017. A cui doveva far seguito un decreto attuativo, mai emanato, norme che inseriscono quotidianamente limitazione dell'esercizio delle attività, imponendo restrizioni agli orari di funzionamento degli apparecchi dell'articolo 110,6 A e l'ettera B, del testo unico di legge pubblica e sicurezza, ed imponendo ormai famoso quanto inutile, come provata dai numerosi studi, uno dei quali è svolto dall'Istituto Superiore della Sanità, il sanziometro dei luoghi sensibili. Misuri che hanno comportato in modo evidente in alcune regioni, vede Piemonte, la chiusura di molte imprese di gestione di esercizi commerciali, motivo per il quale da anni chiediamo una normativa nazionale sotto l'ordino dei giochi, prevista da ultimo dal decreto dignità 87-2018 e mai predisposta. Siamo aziende che lavorano per lo Stato, per realizzare la raccolta del gioco pubblico e quindi del getti terrariale, tanto preziato per l'entrata terrariale, ma anche il sistema bancario discrimina e penalizza le aziende del settore, nella totale indifferenza dell'istituzione preposta. Ribadisco in questa importante sede l'informativa che personalmente ho già sottoposto all'attenzione al sottosegretario Villarosa, all'epoca sottosegretario con delega dei giochi, in cui ho evidenziato che molte aziende associate hanno ricevuto in questi mesi comunicazione con le quali i primari istituti di credito italiani hanno operato la risoluzione del contratto di conto corrente a bancario, senza una giusta causa, ma informando di non voler intrattenere rapporti contrattuali con le aziende del settore per ragioni etiche. Per le stesse ragioni non sono stati concessi i contratti di mutuo ai lavoratori del settore, perché operanti non comparto a rischio. Ci chiediamo a tal punto se operare per lo Stato è un'attività discutibile o addirittura illegale. Questa è la più vergognosa delle conseguenze di un approccio discriminatore del settore, tenuto conto che il denaro di non raccolto, che transita sui nostri conti correnti, è destinato all'erario per il tramite dei concessionari. È peraltro superfluo sottolineare che senza un conto bancario è impossibile fare impresa, in particolare in un settore sottoposto a rigoroso adempimento agli obblighi di integrale tracciabilità dei flussi finanziari. È in questo clima, e come con queste premesse, che di fronte all'ennesimo provvedimento scriteriato che ci colpisce in modo probabilmente mortale, abbiamo chiesto di essere sentiti in questa importante sede. Il decreto legge 124 del 26 ottobre 2019 e l'articolo 26 prevede l'ennesimo aumento del prelevo arariale unico sugli apparecchi di gioco, articolo 110,6 A e B. Misura che renderà la crisi già in atto irreversibile alla sparizione di un comparto che oggi assicura l'erario annualmente oggetto fiscale pari ad oltre 7 miliardi di euro, oltre il 60% delle entrate arariali derivanti dal gioco, questi sono dati del MEF di ottobre 2019. Si ribadisce che la raccolta del gendito senza l'impresa di gestione non può essere realizzata, senza i soggetti che ogni giorno effettuano la manutenzione degli apparecchi, che si regolano fisicamente a consegnare monetine e prelevare il denaro da versare in banca, che effettuano il numero di adempimenti materiali ed amministrativi, che la complessità del sistema impone, il gettito non perverrebbe all'erario. Riteniamo che l'eredità dei numeri sia più chiara di ogni complessa esposizione. Ad oggi, se un giocatore inserisce completamente 100 euro in una WP, 6,68 euro, sono restituiti in vincita al giocatore, 32 euro restano nell'apparecchio, di cui 21,60 vanno all'erario, 0,80 all'agenzia delle due grandi monopoli, a titolo di canon, e solo i restanti 9,60 vanno divisi nella filiera composta con gestionare, gestori ed esercenti. Il tutto per una tassazione effettiva pari al 70%. Considerando l'aumento del preo previsto dal decreto legge in cui parliamo, l'impatto effettivo della tassazione su ricavi salirà al 74,4%, con una riduzione dei margini di ricavi per le imprese di gestione. Onestamente è offensivo dire anche in sede istituzionale che il settore può essere ancora tassato in quanto paga troppo poco perché paga solo il 21%, quando in realtà oggi il 21% sul volume corrisponde ad oltre il 70% del margine, cosa che purtroppo sentiamo anche in sede istituzionali che noi paghiamo il 21%, non è così, noi paghiamo oggi il 70%. Se si considera poi che sui ricavi così determinati gravano i costi aziendali, i costi di nulla osteri, i costi di frizione Ries, le imposte dirette, IRIS e IRAP, possiamo certamente affermare che questo ulteriore provvedimento incrementerebbe la tassazione ad un settore già tartassato fino a portare l'azienda ad una morte di tassazione, stiamo ormai quasi lì. Io ringrazio per la scorsa, resta a disposizione per l'eventuale richiesta di approfondimento, ma vorrei fare un passo sul fatto in quanto riguarda la cancellazione, la chiusura dei conti correnti bancari perché noi siamo obbligati, cioè i gestori degli apparecchi di attrattenimento sono obbligati a pagare tramite il RID al concessionario, se noi non paghiamo tramite il RID del concessionario, autonomamente non rispettiamo il contratto in cui abbiamo il concessionario e giustamente ci possono revocare gli apparecchi. Quindi se noi non abbiamo un conto corrente bancario, se la banca ci vuole i conti correnti e non ce li apre, o quelli che ha li chiude per etica professionale, come dicono loro, per etica, noi tutti i soldi spiccioli, tutte le banconote che incassiamo, dove li portiamo? Noi dobbiamo tracciare tutto, logicamente, perché è giusto che sia tracciato tutto e l'obbligo ci fa enormemente piacere quanto più controllo c'è sul nostro settore, non abbiamo nessun problema, ma se quale banca non aprono i conti correnti, quelli che abbiamo chiudono e addirittura i nostri dipendenti non danno neanche un contratto per comprarsi un appartamento, una prima abitazione, un mutuo, se noi vogliamo capire, i nostri dipendenti sono dipendenti di serie A come tutti gli altri o sono anche dipendenti discriminati diversi da tutti gli altri lavoratori su tutto il territorio nazionale, credo che i nostri dipendenti come tutti gli altri devono avere lo stesso ruolo, lo stesso rispetto da parte di tutti, poi se noi siamo quelli sporchi, quelli brutti, a sto punto ragazzi, voglio dire, chiudiamo, non c'è più il gioco pubblico di Stato, ci bastano due righe, togliamo tutti il gioco pubblico, ognuno di noi ci dà del tempo di poter pagare i nostri debiti, i nostri dipendenti, trovarsi un altro lavoro e andiamo a fare altro, però l'importante è capire anche come dobbiamo fare, perché non si può continuare dalla sera alla mattina a darci con un aumento del preo i propri bisogni, le proprie necessità, i propri investimenti che sono stati fatti poi non si possono più fare dal giorno dopo, è inconcepibile uno Stato così democratico, cioè aiutateci, dateci una mano, altrimenti se lo Stato italiano decide che il gioco pubblico fa male, tutto quello che io non voglio dilungarmi più di tanto, chiudiamolo, bastano due righe, non ci sarà più gioco pubblico e ognuno di noi, la mia terza generazione, io personalmente faccio questo lavoro, mio padre faceva questo lavoro, io faccio questo lavoro, mio figlio fa questo lavoro, se qualcuno ci dice domani dovete smettere, smettiamo, dateci tempo, un anno, due anni, tre anni, quello che è, però sappiamo come vivere, cosa fare per le nostre famiglie, per i nostri investimenti, per i nostri debiti che abbiamo già purtroppo preso già a carico, cioè non è possibile ogni giorno stare, farsi la croce la mattina e oggi che succede? C'è un altro che dice aumento del preo anche oggi, aumento del preo anche domani mattina, capiteci, su questo poi ripeto, noi siamo propensi a tutti, cambiamo mestiere, andiamo a fare qualunque mestiere che ci tocca fare lo andiamo a fare, abbiamo un'età, i nostri dipendenti anche, lo faranno, cambieranno, però ditecelo chiaramente, non si può ancora investire, 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 investire e poi tornare indietro, anche sul Comasette, sugli apparecchi di puro trattenimento in cui c'è iscrizione a Ries, c'è le parecchie regioni che hanno legiferato per quanto riguarda il vietato minor di 18 anni, anche un semplice flipper, giocare a un semplice flipper, giocare a un semplice calcio, balilla, ci sono regioni che è proibito anche giocare, quando io oggi con il mio telefonino gioco H24 sui siti esteri, illegali, H24, 365 giorni all'anno, questo chiediamo, noi abbiamo fatto un lavoro in cui lo Stato ci ha detto di fare questo lavoro, se oggi lo Stato decide diversamente, e lo può fare perché lo Stato legifera, noi ci arriviamo, però ditecelo, ditecelo perché ormai siamo stanchi, non sappiamo più che dire ai nostri figli, ai nostri dipendenti, non sappiamo più che cosa dire, vi prego aiutateci, diteci quello che dobbiamo fare, noi siamo qui a vostra completa disposizione, però ditecelo, non fateci morire ogni giorno una goccia di sangue, siamo stufi e non ce la facciamo più, ma non lo fate per noi, per le imprese, fatelo almeno per i nostri dipendenti, vi prego, fatelo per i nostri dipendenti. Grazie, collega Ungaro, prego rapidissimamente perché dobbiamo chiudere. Sì, assolutamente, intanto vi ringrazio le vostre relazioni, argomenti molto chiari che leggeremo con attenzione. Due domande se posso, la prima è a fronte di questi vari aumenti di preo, di tassazione degli ultimi quattro provvedimenti, qual è l'andamento delle somme giocate sugli strumenti AWP e VLT in ultimi due anni, se c'è una stagnazione o se c'è una contrazione. E la seconda domanda, voi vi rendete conto che in questo provvedimento non ci sono soltanto l'aumento del preo, c'è anche una serie di misure per combattere il gioco illegale o almeno i operatori illegali, che è nel vostro interesse, perché ovviamente lottando contro i giocatori illegali che vi fanno concorrenza sleale, si riduce anche la necessità di aumentare la tassazione sulla parte illegale. Quindi volevo chiedere se a vostro punto di vista, tra le varie misure, l'articolo 29 parla di agenti sotto copertura, il 30 dei requisiti, il 27 si istituisce un nuovo registro unico, se ci sono altre misure che voi vi sentite di condividere con noi commissari, che ovviamente voi siete specialisti del settore, per appunto cercare di ulteriormente contenere, contrastare, grazie agli operatori legali. Grazie. Bene, una controepica rapida. Allora, come si dice, grazie per la domanda, perché in dieci minuti è difficile raccontare tutto, no? Questo è un ordinamento giuridico, è un sistema concessorio ipercomplesso, perché la normativa non è solo nazionale, ma c'è la complessità regionale, 20-21 fonti diverse e quella comunale. Stiamo parlando di 9.000 fonti che si sovrappongono. Perché le dico questo? Perché se lei cerca una correlazione fra la variazione della raccolta e la tassazione del preu, è una ricerca che le consiglio di fare, ma che richiede tantissimo tempo, perché i fattori da mettere in correlazione sono tantissimi. Ne dico una, i distanziometri espulsivi stanno lentamente sottraendo interi territori all'offerta legale. Questo significa che un calo di gettito per la verticale di gioco colpita dall'effetto espulsivo deve essere studiata e ben valutata. I più bravi, dopo aver preso atto che in quei territori c'è un calo, cercano di studiare dove va a finire quella domanda di gioco. Perché l'unica cosa sicura che richiede poca ricerca, sia fra gli psichiatri, sia fra gli economisti, è che quando tu proibisci la vendita di un prodotto, purtroppo per te non cancelli la domanda. E allora la domanda migliore che ti puoi fare, tu in personale, non mi permetterei mai, è dove va a finire questa domanda di gioco. E allora qui si apre la grande ricerca. Può andare a finire semplicemente nel telefonino, come faceva riferimento il presidente distante di Sapar, però non è detto, perché il telefonino è un'offerta legale che ha una modalità distributiva diversa da quella per esempio dell'apparecchio che può trovare in un bar in una sala. Magari quella persona preferisce, faccio l'esempio delle sigarette, fumare il sigaro con gli amici, quindi se gli danno un prodotto similare da fumare per strada non tocca per niente la sigaretta. Questo per dirle quanto è complicato andare a cercare una correlazione diretta fra l'aumento di tassazione. Cosa può notare lei dall'aumento di tassazione? Cose di questo genere che noi non abbiamo voluto annoiarvi. Quella cosa nera che sale, è l'aumento di tassazione che è stato fatto progressivamente ogni anno, perché qui oggi parliamo di 500 milioni di euro. Però 500 milioni di euro, un milione e mezzo è stato imposto sei mesi fa. Altri 500 milioni di euro sono stati imposti x mesi fa, solo per il comparto, non vado indietro nel tempo, solo per il comparto delle videolotterie 9 miliardi di euro è l'aumento da registrare da inizio concessione. Lei ha fatto un'altra domanda che mi sono, quindi la correlazione è difficile. Assolutamente sì, c'è contrazione, poi andare a dimostrare di quanto è diventa veramente la roba difficile. Per quale motivo? Perché devi capire se deriva dall'effetto delle leggi regionali o delle leggi comunali. Poi ha fatto un'altra domanda che è molto interessante. Non so se ha notato, noi non solo per economia di tempo abbiamo cercato di limitare l'intervento a queste che sono le cose macro. Tutte le norme volte a contrastare l'offerta illegale accolte a braccia aperte. Perché il concorrente numero uno, devo dire, è sempre stata l'offerta illegale, oggi sta diventando la normativa stessa. il concorrente numero uno. Per quanto riguarda gli apparecchi illegali che lei diceva, noi abbiamo sempre denunciato i cosiddetti apparecchi totem che ancora oggi vengono installati sul territorio senza licenza di polizia, che possono giocare i minori completamente a nero. Noi li abbiamo sempre denunciati e non perché io dico prima sulla relazione avevo detto il caso Piemonte, no? Il caso Piemonte, io l'avevo detto anche in audizione, che quella gente che manifestava quel giorno sotto la regione Piemonte, il loro posto di quelle persone che lavoravano da vent'anni, trent'anni, l'ha presa la criminalità organizzata. Purtroppo la Guardia di Finanza mi ha dato ragione, perché ogni giorno sul territorio piemontese hanno sequestrato gli apparecchi irregolari, i cosiddetti totem, oppure basta un computer che mettono dentro il bar, quindi hanno tolto. Abbiamo tolto il gioco legale, abbiamo messo il gioco illegale, perché dove non c'è il gioco legale sicuramente c'è il gioco illegale. I cosiddetti totem, che abbiamo sempre denunciati a tutti i livelli, purtroppo ancora oggi vengono installati senza licenza di polizia, giocano i minori e giocano senza licenza di polizia, possono giocare i minori e sono completamente a nero. Questo è il problema e è quello che ci preoccupiamo. Bene, un'ultima battuta e poi dobbiamo chiudere assolutamente. Mi scusi, è agli atti, tra le varie cose a dire ho dimenticato, proprio lo studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che a maggio 2018, quindi ancora prima degli aumenti di tassazione fatti col decreto dignità, la legge di stabilità 19, reddito di cittadinanza, quota 100 e oggi, lo trova a pagina 4, glielo ho evidenziato, mette in evidenza che questi aumenti di tassazione possono comportare una significativa flessione della raccolta complessiva. Dice anche, ed è per questo che sente interventi così accorati, indebolimento della stabilità economica della filiera e io le dico del sistema concessorio. E quando si chiude, se si chiude sono dolori, perché a venir meno, dall'oggi al domani sono 10 miliardi. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie. La seduta è tolta. Grazie a tutti.